Cominciamo e a beneficio non tanto dei presenti, ma piuttosto di quelli che sono collegati con il nostro canale YouTube, benvenuti. Mi chiamo Andrea Rinaldo, sono indegnamente protempore il Presidente dell'Istituto delle Scienze e delle D'Arte e ho il piacere di pre-introdurre a questo convegno le condizioni che ci hanno portati a immaginare che questa fosse un'iniziativa adatta a un'Accademia, per la ragione che vi dirò brevemente. Poi la vera introduzione spetta a Gian Antonio Stella che verrà presentato da Francesca Ghedini che prende poi le redini del convegno e la sua presidenza. Allora il vero e il falso nella cultura e nelle arti è una limitazione diciamo di quello che immaginavamo fare nella progettazione di questo convegno, da dove nasce? Nasce da un sistema di riferimento che è molto adatto all'Accademia naturalmente, perché questo è alla radici dell'interdisciplinarità che è la ragione da essere dell'Accademia stessa, cioè il fatto che si parlino di sculture diverse e si parlino sistematicamente e questo è un tema caro a molti di noi e sul quale abbiamo naturalmente investito negli anni e ci sembra che questa occasione che ci viene data dal concetto di vero o di falso e sia un argomento sul quale sia sensato esercitarci. Si diceva che ogni società lascia tracce di sé e ci si chiede, e questo è certamente un tema importante, se siano necessariamente attendibili. Ci si chiede se siano, se siano, cioè una riflessione sulle falsificazioni, ma le falsificazioni, e diceva il dottor Stella prima che ci sono musei del falso, certo, il problema è il falso che evolve e i modi in cui viene declinato il falso che evolve. Sono in attesa delle alcune presentazioni, falso nella scienza di cui parla Ernesto Carrafoli più tardi, eccetera, che portano delle sorprese di cui lui è stato testimone e tutti gli altri con lui, che segnalano anche l'opportunità e anche la connessione con il mondo della tecnologia che si fa sempre più importante. Quindi lo scopo di questo convegno è quello di comprendere e contestualizzare il falso, naturalmente, nella storia, nell'arte, nelle comunicazioni, nella scienza, ci sono diverse declinazioni, e questo è un primo tentativo che noi facciamo. Il tema di cos'è il falso, da dove nasce l'idea di questi convegni? Devo dire che io sono testimone, e grado anche, di una discussione che si fece con un protocomitato di un convegno ancora vent'anni fa, c'era Antonio Lebschi, c'era Sandro Franchini, che entra adesso, c'era Leopoldo Mazzaroli, che teorizzava il ruolo delle accademie, proprio in questa contaminazione continua, in questa discussione fra le culture diverse, che è in cui sta l'essenza della ragione d'essere delle accademie. Ma si diceva allora, la discussione da cui partiva è che cos'è il falso, e si parlava delle nozze di cana di Paolo Veronese, che era stato in quegli anni, poco dopo, rifatto e riprodotto con una precisione incredibile, dalla copia che Napoleone rubò e portò all'Uvra, e che è indistinguibile da qualunque punto di vista rispetto all'origine. Allora, è un falso o è vero? Questo è messo nel refettorio di San Giorgio, dove era nato e dove era stato rubato. Allora, l'idea dell'evoluzione di concetto di falso, anche relativamente alla genesi di un'opera d'arte, alla sua ragione d'essere, nel momento in cui la tecnologia ti consente di rifarla identica, letteralmente identica, è una riflessione che va fatta. Ci sono altri temi che non tocchiamo in questo caso, le fractal forgeries, per esempio, le costruzioni in cui abbiamo imparato a decodificare un certo linguaggio matematico, in questo caso della natura, molto galileiana questa roba, perché è la spiegazione di come certi ingredienti che sono propri dei sistemi naturali possono diventare un elemento che è falso, ma è intrinsecamente vero per quello che rappresenta. Ci sono alcune cose che sono meravigliose, questo machine learning applicato, per esempio, il prossimo Rembrandt, che è il titolo di un filmato che vedremo, credo, domani, cioè questo, il sistema che con la machine learning studia tutto quello che ha fatto Rembrandt e costruisce un Rembrandt che non è, ma che è un meccanismo che è stato imparato di come Rembrandt pitturava. Allora, l'idea di se sia vero, se sia falso, solleva problemi di tanti ordini diversi che richiedono una riflessione che ci sembra molto adatta a queste categorie. L'occasione, e sono molto grato, naturalmente, a Monica Salvadori, soprattutto a Francesca Ghedini che ha preso in mano questa iniziativa, riguarda il mondo, diciamo, dell'archeologia, in particolare il progetto MEMO del Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova, che ci porterà ad avere un seguito di questo convegno fatto a Padova nella primavera dell'anno prossimo. Ma io immaginerei che questo potesse essere un'occasione di una riflessione che dovrebbe nascere da questo che viviamo in questi due giorni per provare ad allargare questa riflessione, provare ad avere una coda anche probabilmente, diciamo, di pubblicazione di questa iniziativa. Sicuramente la capacità e la voglia dell'Istituto Veneto di Scienze e Tredarti di essere editore di lavori di questo tipo è sempre grande a rispetto di un'uomo di congiuntura economica. Dito questo, allora, il mio compito è quello di ringraziarvi per la partecipazione, di ringraziare in particolare per la signora Ghedini, per questa organizzazione, a cui lascio, per la signora Ghedini, primo segretario, prima donna segretario della classe di Scienze Morali, in 200 anni di storia, e di questo sono molto orgoglioso, e questa è la prima volta che questo succede, abbiamo anche un'amministratrice, mi pare che sia, e a cui lascio, senz'altro, la parola e la presidenza, e questo io non mi sottrago, perché qua rimango la parola a te per l'introduzione. Allora, ringraziamo Andrea Rinaldo, nostro Presidente, per aver aperto la strada a questo convegno a cui abbiamo tenuto tantissimo tutti e che nasce appunto dall'affortunato incontro fra una tradizione di interesse per questo tema che era nata qui all'interno dell'Istituto, e Monica Salvadori, che coordina e gestisce questo progetto Memo, di cui poi ci parlerà. Adesso mi corre l'obbligo di presentare Gian Antonio Stella, che per me è un piacere e un onore, ma lo faccio anche con un certo imbarazzo, perché parlare di Gian Antonio Stella in una sala e con le persone collegate da remoto è quasi pleonastico, lo conoscono tutti, è inviato, è editorialista del Corriere della Sera e credo che non esista nessuno che non abbia avuto il piacere di leggere i suoi pezzi pervasi di una sottile ironia che solo raramente trasmigra nel sarcasmo e che ci danno un quadro della società e della politica attuale sempre con uno sguardo lucido e acuto. L'elenco delle sue pubblicazioni è infinito e quindi non mi cimento neanche a cercare di riassumerle. Ricordo, perché è stato un caso editoriale famoso nel 2013, la casta che ha scritto con Sergio Rizzo e che appunto è andato a pizzicare questi nostri politici nelle loro debolezze. E lo ringrazio a nome di tutto l'Istituto e mio personale per aver accettato di fare la prelusione a queste due giornate da cui ci aspettiamo tantissimo e che io conto che potranno essere pubblicate ed essere forse la prima pietra di un percorso più ampio che io mi auguro che l'Istituto possa fare in futuro. Ecco, io a questo punto se sono pronti con darei la parola ringraziando la Gian Antonio Stella che farà appunto la prolusione. Sì, eccoci qua. Solo un secondo che parta questo. Adesso arriva, eh. Scusate. va o non va sta caricando un attimo soltanto, eh, proprio sta mettendoci un po' e non capisco, però sicuramente adesso Uffa. Uffa. Ci siamo? Oh, bene. Eccoci qua. Partiamo da questa immagine che trovo straordinaria molto recente e da un episodio che forse voi ricorderete il famoso arrivo della nave Aquarius. Dopo qualche tempo mentre c'era un sacco di polemiche uscì a proposito di questi immigrati fermati in porto uscì un video che adesso spero che vedrete e soprattutto che sentirete niente vabbè comunque insomma un marinaio licenziato racconta la verità sull'Aquarius e racconta dicendo che è solo un marinaio dell'Aquarius mi hanno licenziato perché volevo dire la verità in realtà a bordo stanno tutti benissimo gli hanno dato dei soldi anche per andare a giocare al casino c'è un casino una roulette tutti si divertono fanno tardi bevono eccetera eccetera e così così dopo di che escono nuove polemiche e lui si scusa e spiega ho solo raccontato alla gente quello che voleva sentire questo è successo quella volta questo succede tutti i giorni questo succede ad esempio a chi ha voglio dire quotidianamente sollecavalcato delle tigri per motivi spesso molto molto bassi ma cos'è la bufala? spiega il bucavalore della crusca lo saprete ma vale la pena ricordarlo che menare altrui per naso come un bufalo o una bufala questa sarebbe l'origine del senso e la prima bufala se vogliamo andando indietro è quella all'assedio di Troia quando Romero Omero ne parla e dice ma su continua è lo stratagemma del cavallo canta del cavallo di legno che Peo costruì con Atena e sull'acropoli come insidia portò Odisseo glorioso dopo aver riempito dei eroi che distussero Ilio lo racconta qui l'immagine del banchetto alla corte di Alcino nel libro ottavo per primo a correre davanti a tutti scriverà Virgilio nelle Neide mille anni dopo dall'alto della rocca racconta di lato seguito una gran tribù da gran turba e di lungi sciagurati cittadini quale così grande follia credete partiti i nemici o stimate alcun dono di Danai privo di inganne e in realtà aveva ragione lui ma non fu ascoltato e come dice qui la storia lo ricordate tutti questa è una immagine di Trautman la prima fake però ancora più propriamente fake come la intendiamo ora è quella che riguarda Pausania questa è la battaglia di Plateo il 20 agosto il 469 a.C. i greci sconfiggono i persiani e cambia la storia dell'Occidente il comandante è Pausania capo degli Spartani e questo è Cerse I un rilievo di Cerse I e la cosa nasce così che a un certo momento i troiani e gli greci in genere temono che Pausania acquisti troppo potere allora cosa fanno se ne liberano con quella che secondo me è la vera prima fake della storia e cioè qualcuno scrive una lettera falsa e questa lettera falsa viene pensate un po' miracolosamente chissà per quale coincidenza intercettata viene intercettato il messaggero che portava la lettera e questa lettera raccontano racconta Erodoto che conteneva un falso a Sparta giunse la notizia che lo stratega complottava con i barbari ma si può bene immaginare che a denunciarlo fossero gli atteniesi e i loro alleati per mettere in cattiva luce Pausania e con lui tutto il popolo spartano c'era scritto io Pausania capo degli spartani ti restituisco parla a Cerse primo ti restituisco questi prigionieri catturati in battaglia volendoti fare cosa gradite ti propongo si piace anche a te di sposare tua figlia e di sottomettere il tuo potere Sparta e tutta la Grecia ritengo di essere in grado di realizzare questo piano se mi metto d'accordo con te se dunque questa proposta ti piace manda qualcuno fidato con cui proseguire la trattativa vada a sé che appena avuta in mano questa lettera qualcuno sapendo che era falsa già prima perché l'aveva costruita lui e qualcun altro in perfetta come dire innocenza quanto sa che si scatenano contro Pausania lui si rifugia in un tempio puntando sul fatto che chi si rifugiava in un tempio non poteva essere toccato allora cosa fanno prendono il tempio riempiono tutte le aperture di mattoni lo chiudono dentro senza acqua senza cibo senza ossigeno e quando finalmente immagino che possa essere morto riaprono il tempio e portano via il cadavere la bufala più grande di tutti i tempi però sono sicuro che tutti voi concorderete è la donazione di Costantino a Papa Silvestro e qui vediamo un'immagine dell'oratorio di San Silvestro proprio a Roma in cui Costantino porge la capitale e porge Roma e tutta l'Europa occidentale a Papa Silvestro avrebbe detto il 30 marzo 315 noi diamo a Silvestro Papa universale il nostro palazzo e tutte le province palazzi e distretti della città di Roma e dell'Italia e delle regioni occidentali in realtà la fondazione di Costantinopoli è dell'11 maggio 330 dopo Cristo e qui vediamo Costantino nel mosaico della Basilica di Santa Sofia però in realtà tutti quanti non se ne accorgono non fingono una cosa la stessa fondazione di Costantinopoli sarebbe secondo alcune fonti del 324 avanti Cristo fatto sta che questa era la ripartizione grossomodo che si vede in un disegno moderno di qua la pass occidentalis di là la pass orientis questo documento che salta fuori circa nell'ottavo secolo dopo Cristo ha delle conseguenze enormi basta ricordare Canossa nel 1077 Enrico III va a prostrarsi davanti a Gregorio VII che lo fa tendere fuori dalla porta per tre giorni proprio sulla base di quell'idea centrale cioè che comunque era stato aveva avuto tutto il Papa ed era lui che aveva poi la supremazia anche Dante Alighieri ci casca e nella Divina Commedia scrive ah ai Costantini di quanto mal fu madre non la tua conversione ma quella dote che da te prese il primo ricordo padre in realtà bisogna aspettare il 1440 perché Lorenzo Valla al quale va questo enorme merito di avere mascherato la Valla capisce che si tratta appunto di un falso che la donazione di Costantino non è mai stata fatta e scrive come si può parlare di Costantinopoli come di una delle sedi patriarcali quando ancora non era né patriarcale né una sede né una città cristiana né si chiamava così né era stata fondata né la sua fondazione era stata decisa infatti il privilegio fu concesso tre giorni dopo che Costantino ci fece cristiano quando esisteva ancora Bisanzio non Costantinopoli ovviamente il documento è molto più lungo io ho messo la sintesi certo è che di questa di questo documento che smaschera la falsa donazione di Costantino esisteranno poi in realtà 19 copie mi spiegava Salvatore Seltis ed era molto difficile farle circolare anche tra il popolo tra le persone come fai ad andare a smontare a distanza di tanto tempo una bufala come questa bisognerà aspettare un altro dell'altro tempo un altro secolo circa perché Ulrich Van Huyten nel 1517 l'anno delle 95 tesi Lutero fisse sul portone della cattedrale Wittenberg perché questo documento venga dato alla stampa e possa finalmente avere una maggiore diffusione e quanto importante sia la stampa l'invenzione della stampa lo capiamo anche da questo a questo episodio mondiale straordinario è la storia del prete Gianni arriva un certo momento nel 1165 una lettera del prete Gianni qui vediamo una immagine su il regno del prete Gianni di Martin Berheim del 1558 perché in realtà la lettera era come vedete di quattro secoli prima ma la leggenda del prete Gianni continua anche quando lui presumibilmente è morto e stramorto da molto tempo però la leggenda resiste questo sta che in questa letra il mitico prete Gianni scrive a manuale comneno imperatore di Costantinopoli ad Alessandro III papa e all'imperatore Federico Barbarossa una letra in cui questa è la parte concentrata però è letterale ho messo solo dei buchi con i puntini io per te Gianni sono signore dei signori e in ogni ricchezza che c'è sotto il cielo in virtù e poi il potere supremo tutti i re e in realtà scusate supero tutti i re della terra 72 re ci pagano tributi sono un devoto cristiano e abbiamo in voto di visionare il santo sepolcro con un grandissimo esercito in quanto si addice alla gloria della nostra maestà umiliare sconfiggere i nemici della croce di Cristo ed esaltare il suo nome benedetto fa da sé che tutti i nemici dell'islam dei conquistatori dei turchi del tutto il mondo islamico videro in questa lettera un incoraggiamento a riprendere e riprendere e riprendere le crociate per cercare di andare a recuperare il santo sepolcro da dove veniva tanti anni beh insomma ci sono delle immagini che arrivano delle ipotesi che sono state fatte praticamente per tutto il mondo qualcuno l'ha collocato in Asia qualcuno ha detto che forse era il Gengis Khan alla cui corte ci sarebbero stati anche dei cristiani anzi lui si dilettava a fare queste sfide fra pensieri diversi e in questa mappa lo vediamo dove più frequentemente venne posizionato e cioè nell'attuale Etiopia e vedete proprio che la scritta riporta Presbiteri Ioannis Sive Abissino Abissinorum Imperi Des Criptio e poi alcune lettere che fecero altre lettere che fecero dei disastri enormi ad esempio la lettera ai lebrosi la lebra allora era un problema grave anche per l'Europa molto grave anche per l'Europa la lebra e la peste che a volte come dire si mischiavano si confondevano qui vediamo una miniatura straordinaria della peste a tournée in Belgio del 1092 fatto sa che l'incubo della peste era tale che al certo punto e della lebra era tale che al certo punto qualcuno scrive una lettera falsa nel 1321 del re di Granada a Samson figlio di Elias ebreo che promette il quale promette ricchezze e possedimenti a ebrei e lebrosi se avessero avvelenato i cristiani una seconda lettera falsa del re di Tunisi intercettata anche qua tra virgolette perché sono tutte cose come dire scelte a tavolino proprio per uno scopo ben preciso non erano errori erano cose fatte scelte fatte a tavolino presumibilmente tutte e due scritte da un certo medico pierde ora che avrebbe tutte e due tradotte dall'arabo fatto sta che ne viene fuori una scelta certificante di Filippo V il Lungo e cioè l'edito contro i lebrosi sintesi ma letterale ho fatto catturare tutti gli ebrei del nostro regno per la partecipazione e complicità ai convegni e alle cospirazioni fatti da molto tempo in qua dai lebrosi per porre veleni mortali nei pozzi e nelle fontane e altri luoghi per far morire il popolo e i sudditi del nostro regno bastò questo edito per scatenare una delle più feroci cacce all'ebreo che mai ci siano state in in occidente e basta ricordare il famoso massacro qui vediamo una miniatura che lo ricorda il massacro degli ebrei a Verdans sul Cajon che viene ancora oggi ricordata la colonna infame non è anche quello un falso è un falso perché come scrive giustamente Inazzoni e questa è un'illustrazione del tempo della storia della colonna infame la mattina del 21 giugno 1630 verso le 4 e mezzo una donnicciola chiamata Caterina Rosa trovandosi per disgrazia a una affidenza di un cavalcavia che allora c'era sul principio di via della vetra dei cittadini dalla parte che mette al corso di porta cinese quasi di ripeto alle colonne di San Lorenzo vide venire un uomo con una cappa nera e il cappello sugli occhi ed una carta in mano e poi prosegue Manzoni raccontando che di come questa supposizione aver visto uno che stava forse ungendo i muri per seminare la morte beh dice che il figlio del povero mora essendo interrogato più tardi se ha o se sa o ha inteso dire in che modo il detto commissario ungesse le dette muraglie case risponde sentei che una donna di quelle che stanno sopra il portico dissero che detto commissario ongeva con la penna avendo un vasetto in mano eccetera eccetera ma la cosa spaventosa la storia la conoscesse è come andò a finire allora a il barbiero Gio Giacomo Mora e il commissario Guglielmo Piazza posti sopra un carro sono ferragliati nei luoghi più pubblici della città b nel corso detto il carrobbio è loro tagliata la mano destra nel luogo della giustizia sono spogliati nudi con la rota gli si rompono le ossa delle gambe delle cosce delle braccia si alza sopra un palo la rota nella quale sono intrecciati e vi stanno vivi per lo spazio di sei ore sono scaddati sono bruciati eccetera eccetera così può finire quando si semina l'odio come una notizia falsa racconta Mazzoni tanto tempo fa la storia è piena piena di falsi l'odio contro Maria Antonietta la famosa frase il pane dice non hanno pane dategli brioche esattamente se non hanno più pane che mangino brioche l'avrebbe detto nel 1789 ma è vero? no perché prima prima della rivoluzione niente meno che Jean-Jacques Rousseau morto nel 1778 quindi undici anni prima dell'evoluzione francese racconta che si sarebbe trattato in una frase ascoltata da una gran principessa del salotto di Madame Mobli nel 1741 cioè 14 anni prima della nascita di Maria Antonietta e vedete che tutte queste cose qua messe insieme ti danno davvero dell'idea che è stato c'è sempre stato un filo conduttore l'odio l'odio anche la prima fake economica è interessantissima siamo nel il 21 febbraio 1814 e arriva una notizia Napoleone è stato ucciso dai Cusacchi chi la porta? La porta un marinaio che dopo essersi aver bevuto un sacco di acqua essersi bagnato completamente essersi rotto i vestiti per avere una più come dire più immediata un più immediato aspetto di un naufrago arriva sulla sulla cosa di Dover e si fa trovare da qualcuno e prima che lo trovi lui dice ho passato la manica sono naufragato devo arrivare a Londra devo arrivare a Londra ma perché devi arrivare a Londra devo arrivare a Londra ma perché devi arrivare devo portare una notizia sensazionale e non dice quale dopodiché lo portano a Londra e lui mano a mano che si avvicina a Londra lascia trappelare la notizia che Napoleone è stato ucciso dai cosacchi questa è un'immagine ovviamente successiva che mostra Napoleone davvero morto ma successivamente però fatto sta che Thomas Cochrane ammiraglio e politico viene arrestato con l'accusa di aggiotaggio perché partendo da quella notizia aveva giocato in borsa e aveva fatto un sacco di soldi lo beccarono lo stupidotto assieme al marinaio rivestito asciugato e spamato che l'hanno ombragato a Dover e arrestano lui e arrestano anche il marinaio fatto sta che questa notizia ed è un'altra cosa meravigliosa viene ripresa da il grande Alexandre Dumas che la usa la ritocca la rimpasta e se ne serve nel conto di Monte Cristo dove come forse ricorderete no aveva fatto arrivare la notizia una notizia falsa a proposito del ritorno in Spagna di Don Carlo e il telefono Ciappe lo vedete qui a sinistra trasporta questa notizia e ne viene fuori che nel conto di Monte Cristo si legge che cinque minuti dopo la notizia telegrafica giunse al ministero Debré uno dei nemici di Elmond d'Antes che il protagonista come tutti ricorderete della storia Debré invece attacca i cavalli al suo coupé e corse a carri di Danglar vostro marito ha delle cartelle del prestito spagnolo lo credo bene ne ha per sei milioni che ne le vende subito a qualunque prezzo e perché Don Carlo è fuggito da Burge ed è rientrato in Spagna e lui subito a vendere tutto quanto e come ricorderete è la sua rovina perché da quel momento nessuno più gli farà credito e così via andiamo verso la chiusura i protocolli dei perfidi giudei allora i protocolli dei savi di Sion sarebbe del 1903 dico sarebbe perché in realtà non è mai stato chiarito fino in fondo quando sono usciti e in che lingua anche addirittura sono usciti in realtà pare che dietro questa macchillazione che tutti voi conoscete ci fosse un piccolo editore scrittore che si chiamava Maurice Choli un francese che qualche anno prima aveva scritto questo libro e dialoghi all'inferno Machiavelli e Montesquieu la politica e l'aveva scritto nel 1864 dopo di che messi a confronto questo libro del 1864 e i protocolli e i dialoghi hanno delle analogie impressionanti quindi ho messo soltanto una perché non è possibile un powerpoint raccogliere tutte queste cose però insomma tutto questo richiamo al dio Visnu le centilaie arrivani eccetera di braccia l'idolo controllerà una leva dell'apparato dello Stato eccetera eccetera così via la leva la leva fatto sta che da lì pare che sia nata l'idea di rivederlo in chiave anti-ebraica e se ne sarebbe occupato Piotr Ibenovic Tokovski direttore parigino dell'Ocrana il servizio segreto dello Zad con questa magnifica barba che il nostro Gian Pietro Zucchetta e l'amico veneziano con quella barba che tutti noi invidiamo mi sarebbe stata bene e un altro barbuto signore Sergei Aleksandrovic Nirus editore antisemita che considerava Nicola II troppo liberale e si servì della pubblicazione di questo di questa orrenda invettiva per aizzare diciamo così lo stesso Zad poi ancora ma vado verso vado davvero a chiudere nessuno può dimenticare i marziani di Orson Wells cioè il giovane Orson Wells che non era ancora questo aspetto mistoferico no formidabile con questi occhi fiamveccianti no ma era allora un ragazzino molto ironico che lavorava alla radio e però era già il numero uno nel suo mestiere indiscutibile guai a chi ce lo tocca si inventò la notizia che erano sbarcati i marziani il titolo del daily news del giorno dopo è questo fake radio war semina il terrore in tutta l'America ma sono ancora più interessanti come dire le fake fatte quando ancora non c'era photoshop perché oggi sai con photoshop fai tutto no ma allora guardate degli esempi allora questo è il comizio del 1920 di Vladimir Lenin che su la sua foto probabilmente più famosa la foto più famosa di Lenin che tiene questo comizio su un autocarro e sotto a destra dopo li conoscete c'è Trotsky allora i russi cosa facciano non avendo photoshop si misero con quei pennini a ritoccarlo e in questa foto è sparito non c'è più Trotsky che mai più ricomparirà sulla scena sovietica ancora più bella per me è questa cioè il duce in un'oasi vicina a Tripoli no sa alza la spada dell'Islam perché a certo quel giorno si esagerò perfino dicendo che l'Islam doveva essere non solo riconosciuto come addirittura che il fascismo doveva proteggere lui si si autonomina diciamo così si autora il difensore dell'Islam solo che quando ebbiamo rimanere la foto a qualcuno vide la foto e dice ma il parafreniere è negro è negro e come fa il duce che sta facendo tutta la politica ranziale e l'anno dopo qui siamo al 1937 l'anno dopo farà le leggi ranziali come fa il duce avere un parafreniere che gli tiene il cavallo nero e come fanno sbianchettano anche lui e quando lo vedete qua la frase esatta di Mussolini l'Italia fascista intende assicurare alle popolazioni musulmane e a Libia e dell'Etiopia la pace la giustizia e il benessere il rispetto alle leggi del profeta e vuole inoltre dimostrare la sua simpatia di Islam ai musulmani del mondo intero prima di come dire dimenticare tutta la storia passata del fascismo cosa avvenuta negli ultimi mesi e più ancora nell'ultima campagna elettorale ecco forse qualcuno ha rimosso anche queste pratiche che credo non facciano molto piacere ai a una certa destra anche oggi anche se va detto che un uomo come Italo Balbo fece addirittura la proposta che fosse concessa la cittadinanza italiana a tutti gli islamici a tutti gli abitanti della Libia e delle terre occupate una proposta che a leggerla oggi voglio dire qualche fanatico andrebbe a bruciare i busti ammesso che ce ne siano perché li hanno già buttati giù gli antifascisti come dire a usannare i busti di quest'uomo ucciso morto misteriosamente diciamo per colpa di un tiro sbagliato della contraerea che batte il suo aereo beh siamo rimasti a questa foto e per la finiera è sparito eccolo qua è tolto il negher l'ha messo da una parte ed ecco il luce in tutto il suo splendore con la spada dell'islam alzata al cielo insomma raccomandò Mark Twain per prima cosa dovete aver bene chiari i fatti così potrete distorcerli come vi pare e credo che questa sia la degna conclusione di questo piccolo di assunto storico ringraziamo di cuore Gian Antonio Stella per questa straordinaria carrellata attraverso le fake news news di secoli e secoli che ci ha fatto capire come spesso molto diverse siano le esigenze che scatenano queste queste fake news qualche volta è per scatenare guerre altre volte per giustificare vendette anche personali per condannare persone per giustificare crimini orrendi come quelli delle leggi razziali ma anche per divertirsi per fortuna sono est è bellissima queste diciamo cancellazioni di immagini antelittera ma oggi è anche troppo facile infatti quello che vediamo in rete non sappiamo mai se è vero o falso quindi grazie di cuore poi semmai se ci saranno qualche domanda lei si può fermare molto volentieri e allora semmai semmai faremo la discussione più avanti adesso allora direi andiamo avanti e diamo la parola a Monica Salvadori professore ordinario di archeologia e storia dell'arte all'università degli studi di Padova che sarà acqua giuvata penso da una sua giovane collaboratrice collaboratrice posso stare anche qui forse come vuoi ecco il titolo il titolo della comunicazione di Monica Salvadori è falso archeologia e società non no questo 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 è questo è questo buonasera a tutti e a tutti intanto ringrazio assolutamente l'istituto veneto per questa questo progetto di condividere insieme due puntate in realtà come ci raccontava prima andrea rinaldo sul tema del falso dell'autenticazione quindi queste due giornate a venezia affronteremo in termini generali la problematica e poi dopo nel corso della primavera svilupperemo ulteriormente il tema scendendo più nello specifico della problematica in relazione soprattutto all'archeologia e beni culturali in termini più ampi e in effetti l'interesse per il tema della falsificazione di beni archeologici in età contemporanea da parte di un giovane e attivo gruppo di ricerca che qui rappresento e che è costituito come si vede dalla presentazione da clelia sbrolli ma da luca zamparo che rientra nel comitato scientifico del convegno e da monica baggio e che opera all'interno del dipartimento dei beni culturali dell'università di padova nasce sulla scorta dell'esperienza del progetto memo la memoria degli oggetti finanziato dal bando progetti di eccellenza della fondazione cassa di risparmio di padova e rovigo che a partire dallo studio delle collezioni di ceramica greca e magno greca nei musei del veneto ha dato ampio spazio al problema della falsificazione purtroppo ben attestato nella formazione delle collezioni da parte di estimatori privati fino a farne un vero e proprio filone di ricerca e un'occasione di approfondimento educativo destinato agli studenti dei corsi di archeologia dell'ateneo patavino che ci tengo molto a sottolineare questo risvolto anche formativo che nasce proprio dalle riflessioni su questo tema in questa sede ripercorreremo insieme alcuni dei casi più famosi dello scorso secolo un po sulla falsariga di quello che è emerso poco fa dall'intervento di gianantonio stella mi concentrerò solo su alcuni casi che ricordiamo per il clamore che hanno suscitato all'epoca e che hanno coinvolto istituti prestigiosi illustri studiosi e personaggi di dalla dubbia moralità molto divertenti in alcuni casi vicende che pienamente si sono inserite nelle dinamiche e talvolta nelle piaghe della società coeva in seconda battuta poi presenteremo alcuni dati emersi durante i seminari didattici dello scorso anno accademico che mostrano la problematica su scala minore e caratterizzano il commercio privato ormai largamente diffuso sul web dunque parlando di di falsi archeologici immessi nel mercato dell'arte e a caro prezzo acquistati da importanti istituti museali che fortemente hanno incuriosito o scosso l'opinione pubblica non può non essere menzionata la rocambolesca vicenda della tiara di saitaferne il primo aprile del 1896 antoine heron de vilfosse curatore del museo del louvre responsabile per la scultura greca e romana annunciò l'acquisizione tra altri oggetti d'oro di una tiara risalente alla fine del terzo o all'inizio del secondo secolo avanti cristo che sarebbe stata offerta dagli abitanti di olbia nell'attuale ucraina al sovrano e indomabile guerriero scita saitaferne la tiara acquistata per l'esorbitante somma di 150 mila franchi era decorata con scene mitologiche desunte dall'iliade immagini di vita quotidiana scita e da un'eloquente iscrizione in greco che recitava il consiglio e i cittadini di olbia onorano il grande e invincibile re saitaferne non molto tempo dopo l'esposizione del pezzo cominciarono a emergere nella comunità scientifica perplessità e dubbi riguardo alla sua autenticità il grande archeologo tedesco adolf furtvengler il insomma il maestro per l'archeologia filologica nella ricerca del capolavoro di capolavori perduti dell'arte greca in realtà fu il primo a esprimere un parere negativo a causa dell'eccezionale quanto inverosimile stato di conservazione dell'oggetto e complice la stampa francese la vicenda si trasformò presto in una piccola disputa franco tedesca nel 1903 cominciarono ad intensificarsi le voci sulla presunta realizzazione del manufatto per mano di un orafo ebreo di odessa di nome israel ruchumovski l'artigiano si presentò allora alle autorità francesi dichiarandosi come l'autore della tiara e convocato a parigi portò con sé i disegni ai quali si era ispirato e delle fotografie in cui l'oggetto appariva senza alcuna imperfezione facendo supporre che le ammaccature fossero state realizzate in un secondo momento dai mercanti per antificare il manufatto venne a questo punto istituita un'apposita commissione parlamentare e l'artigiano riprodusse a memoria alcuni dettagli della dià della tiara poco visibili e mai rivelati dimostrandone così la paternità dichiarò inoltre che il manufatto gli era stato commissionato pochi anni prima da due mercanti d'arte rumeni i fratelli ochman come dono per un loro familiare e che essi gli avevano fornito i modelli e l'iscrizione da riprodurre sull'oggetto il quale era stato pagato 1800 rubli l'equivalente di circa 7000 franchi il caso si concluse poi felicemente con il trasferimento a parigi di ruchomowski falsario inconsapevole possiamo dire e l'inizio della sua fiorente attività orafa sulla scia della celebrità venutagli dall'affaire della tiara gli intermediari fogel e zimanski che avevano orchestrato la vendita dell'opera falsa al louvre non ebbero alcuna ricaduta giudiziaria in quanto residenti all'estero ugualmente i curatori che ne avevano caldeggiato l'acquisto ad eccezione di salomon reinach e qui potremmo fare una parentesi sul spirito antisemita del tempo noto soprattutto un famoso archeologo noto soprattutto per la produzione di fondamentali cataloghi di opere di opere d'arte greca e romana tra cui il celebre repertoire telepenture greche e romane che appunto nel contesto antisemita del tempo siamo poi negli stessi anni dell'affare Dreyfus divenne il capro espiatorio dell'intera vicenda e subì un momento di allontanamento dal louvre un caso più recente noto a tutti particolarmente celebre e spinoso per le sue ricadute economiche e sociali è senz'altro quello del kuros acquistato dal getty museum nel 1985 per circa 7 milioni di dollari sulla cui autenticità già al momento dell'acquisizione si accese un forte dibattito tra scienziati esperti e studiosi la controversa vicenda del kuros getty un kuros di dimensioni superiori al vero datato dagli specialisti da alcuni degli specialisti alla fine del sesto secolo avanti cristo inizia nel 1982 quando Gianfranco Becchina noto trafficante internazionale offrì l'opera al curatore di antichità del getty il quale la portò a malibu unitamente a dei documenti che ne attestavano l'autenticità per sottoporla ai trasti del museo quindi torniamo sui documenti che hanno un valore di c'è il documento per cui siamo sicuri dell'autenticità in realtà immediata fu la reazione di federico zeri fu il primo che intervenne a gamba tesa nei confronti della questione che allora era nel consiglio di amministrazione il quale appena vide la scultura nella cassa dichiarò subito che si trattava di un falso e si oppose vigorosamente all'acquisto fino a dimettersi poco dopo di fronte alla determinazione del museo a proseguire le trattative il museo era un museo giovane aveva bisogno di arricchire la sua collezione quindi c'era un desiderio molto importante di poter acquisire un petto un pezzo così sensazionale decise ai fini dell'acquisizione furono le indagini condotte sul tipo del marmo che conclusero che si trattava di un marmo dolomitico proveniente dall'isola di tasos la cui superficie presentava tracce di calcite come esito di un processo di de dolomitizzazione ossia di trasformazione del marmo dolomitico in calcite svoltosi durante un periodo di centinaia se non migliaia di anni che non poteva essere riprodotto artificialmente la scultura tuttavia presentava molteplici aspetti enigmatici la documentazione prodotta ad esempio dalla quale non si evinceva né la provenienza nel contesto di rinvenimento faceva risalire l'opera alla collezione di un medico ginevrino che l'avrebbe acquistata nel 1930 da un mercante greco e ne attestava l'eccezionale pregio attraverso una serie di lettere intercorse tra il collezionista e gli imminenti studiosi datate agli anni 50 tale documentazione a seguito di indagine specifiche condotte dopo l'acquisto risultò falsa è pur vero che la falsificazione dei documenti non è di per sé un elemento di rimente in quanto spesso funzionale all'emissione sul regolare mercato dell'arte di opere provenienti da trafugamenti e contrabbando dal punto di vista stilistico fu evidenziato da varie voci che il curos presentava caratteri ascrivibili a stili locali e fasi cronologiche differenti il trattamento delle ciocche ad esempio della capigliatura che sembrava alludere a modalità degli inizi del sesto secolo avanti cristo il volto e il busto che indirizzavano invece verso una datazione più recente intorno alla fine del secolo stesso siamo sempre all'interno del sesto secolo ma alcuni elementi ci portano all'inizio del sesto altri alla fine del sesto così come la muscolatura delle cosce e dei glutei e il naturalismo dei piedi a far vacillare le certezze anche dei più ferventi sostenitori dell'autenticità dell'opera furono delle scoperte dei primissimi anni 90 in primo luogo il rinvenimento di un curos dichiaratamente non autentico realizzato in un laboratorio romano agli inizi degli anni 80 il cui marmo si riteneva fosse del medesimo blocco del marmo del curos ghetti il museo californiano prontamente acquisì l'opera per condurre i dovuti approfondimenti ed è verse che si trattava sì di marmo di tasos ma che la superficie era stata alterata mediante un bagno acido un procedimento più più semplice che veniva molto spesso attuato nelle nei processi di falsificazione inoltre sebbene dal punto di vista stilistico e dimensionale si registrassero differenze evidenti alcuni dettagli nel trattamento del torso e delle mani sembravano accomunare le due opere in secondo luogo fu cruciale la scoperta che contrariamente a quanto si pensava il processo di delomitizzazione poteva essere replicato in laboratorio questo processo si poteva falsificare il che vanificava la certezza che la presenza di calcite fosse un parametro inconfutabile dell'autenticità dell'opera riaprendo così il dibattito tra scienziati storici dell'arte e archeologi marion true allora curatrice degli antichità del ghetti a favore dell'autenticità dell'opera trovandosi a dover rivedere la sua posizione dichiarò tutto ciò che riguarda il curos è problematico ho sempre considerato il parere scientifico più oggettivo dei giudizi estetici ora mi rendo conto che mi sbagliavo e in merito alla possibilità che un falsario avesse messo in pratica conoscenze tecniche raffinatissime e un procedimento tanto laborioso aggiunse mi preoccupo di sottovalutare l'abilità dei falsari nel 1992 ad atene viene infine organizzato il ghetti curos colloquium cui presero parte molti eminenti studiosi per discutere circa l'autenticità dell'opera con interventi di natura sia storico artistica sia archeometrica e dopo essere stato per decenni esposto al museo di malibu con una dubitativa didascalia che recitava curos intorno al 3 al 530 avanti cristo o moderna falsificazione modern forgery il curos ormai quasi unitamente considerato un falso e il cui autore rimane ancora ignoto dal 2018 è stato rimosso dall'esposizione permanente mi piace sottolineare una cosa molto interessante in realtà questo caso del curos ghetti che aveva coinvolto e diviso esperti di tutto il mondo è stato anche terreno di studio sotto il profilo delle scienze cognitive contemporanee in un best seller scientifico del 2005 a firma di malcolm gladwell blink the power of think and without thinking che in italiano è tradotto in un nell'espressione in un batter di ciglia in un che per capire come funzionano i processi inconsci alla base della sensazione di sapere a prima vista riporta le reazioni istintive di questa repulsione intuitiva che vennero allora espresse da federico zeri che da subito dichiarò il pezzo non è autentico ma di tanti altri come angelos dell'ivorias allora direttore del museo benachi di atene che anche lui da subito disse l'opera assolutamente è falsa sento mi proprio ho un sentimento di repulsione di fronte a quest'opera ed è un sentimento immediato quindi secondo me questo è veramente un aspetto molto interessante di tutta la questione che si potrebbe anche ulteriormente approfondire se questi due manufatti hanno fatto la storia della falsificazione per le loro vicende e per le proporzioni del fenomeno ce ne sarebbero molti altri ma citiamo questi due casi che sono emblematici e del coinvolgimento possiamo dire di famosi archeologi e storici dell'arte dell'arte addentrandosi nello studio di collezioni private ci si imbatte ugualmente in pezzi dal portato molto ambizioso per fattura per dimensione e per modelli di riferimento alcuni di questi casi noi li stiamo studiando proprio grazie a questo progetto che ho citato poco fa il progetto memo è il caso ad esempio di un carro da parata pseudo etrusco in lamina d'argento di cui si è recentemente occupato un nostro giovane laureato daniele zumerle facendo par facente parte di una collezione cospicua di materiali archeologici acquisita mediante l'ascito testamentario dall'università di padova e attualmente oggetto di indagine da parte dell'equip del progetto memo il carro in questione costituisce il manufatto che all'interno della collezione come vedete dall'immagine prevalentemente costituita da vasi pseudo antichi assumeva il ruolo di protagonista assoluto la cui aura veniva esaltata dalla sua collocazione all'interno di un armadio creato ad hoc quasi una wunderkammer in modo specifico lo studio dei dettagli strutturali delle lamine di rivestimento del carro ha evidenziato una serie di incompatibilità rispetto all'ossatura linea del veicolo che ne avrebbero impedito la mobilità a ciò si aggiunga l'eccezionale stato di conservazione in cui si riconoscono solamente incrostazioni di probabile natura terrosa che ad un'osservazione di dettaglio appaiono appositamente applicate alla superficie metallica su cui una volta distaccate non lasciano alcuna traccia quindi incrostazioni assolutamente superficiali dal punto di vista tecnico esecutivo l'esame al microscopio della forma dell'andamento dei tratti incisi della decorazione se da un lato testimonia l'utilizzo di uno strumento accostabile al cesello profilatore impiegato dai toreuti etruschi in età arcaica non permette invece di identificare lo strumento con il quale sono state tracciate le incisioni romboidali che vedete a destra della slide rinvenute sul pannello frontale che non hanno assolutamente confronti nell'oreficeria etrusca per quanto riguarda poi il programma figurativo i modelli paiono potersi rintracciare tra materiali di varia provenienza per lo più di età arcaica con però aggiunte e innovazioni non riconducibili al repertorio antico per esempio il pannello frontale mostra qui lo vedete la lotta tra eracle e apollo a sinistra della slide per il tripode delfico e mentre lo schema in cui i due personaggi si affrontano e stringono una mano attorno all'anello del tripode trova ampi confronti nel repertorio figurativo di sesto secolo avanti cristo la posizione del braccio libero dei due contendenti con la mano destra dietro la testa dell'avversario risulta invece senza paralleli nel mondo antico ed è probabilmente ideata dal falsario per rendere visibili gli attributi dei due personaggi le due lamine di raccordo tra pannello anteriore e pannelli laterali a loro volta sono ispirate se non addirittura sembrano replicare le lamine con curo i presenti con analoga funzione sul carro di ischia di castro che qui vedete a sinistra della slide i pannelli laterali riproducono un centauro gradiente con ramo sulla spalla un soggetto molto diffuso durante l'arcaismo però risulta tuttavia inedita la scelta di inserire al di sotto della figurazione una fascia decorativa floreale e che è assente dagli altri carri da parata insomma tutta una serie di osservazioni ce ne ci sono moltissime incongruenze riscontrate che sembrano combinare repertori decorativi di epoche diverse e che evidenzano evidenziano la figura di un falsario capace nel complesso di comporre un ciclo figurativo piuttosto articolato il quale tuttavia si è tradito per certe ingenuità stilistiche come ad esempio la rappresentazione degli occhi dei personaggi che talora invece di avere la forma a mandorla tipica del sesto secolo sono già resi di profilo le indagini archeometriche hanno confermato la non autenticità del manufatto nella lega d'argento via la presenza del cadmio metallo scoperto molto più tardi in età moderna 1817 inoltre sulla base dei confronti istituiti è addirittura possibile circoscrivere il periodo di produzione di questo oggetto tra il 1967 quando venne scoperto il carro di ischia di castro e che come detto è fonte di ispirazione per alcune iconografie del nostro carro acquisito dall'università di padova e il 2011 anno di edizione dello studio del carro di monteleone di spoletto che è il pezzo più significativo di questa serie di oggetti in cui si mettono in luce per la prima volta alcuni aspetti strutturali dei veicoli etruschi di cui il nostro falsario pare non essere ancora a conoscenza vediamo ora la consistenza del fenomeno della falsificazione rispetto ad un'ulteriore categoria di materiale archeologico quella degli affreschi romani il tema ha costituito l'oggetto di un approfondimento svolto in sede di laboratorio con gli studenti di archeologia che ha compreso una ricognizione dei reperti in vendita nei cataloghi case d'asta o su piattaforme di compravendita online la in realtà la contraffazione di affreschi romani è un fenomeno certamente non nuovo e ampiamente indagato che nasce nei secoli delle scoperte delle antichità delle città campane di sepolte dalle ceneri del vesuvio e le pitture che allora si andavano scoprendo venivano selezionate e staccate per essere trasformate in quadri da cavalletto gelosamente conservati presso il museo ercolanese di portici la loro fruizione rimase un fatto esclusivo che riservato a una ristretta selezione di eruditi contribuì ad accrescere la curiosità e il desiderio di appropriazione di antiquari e collezionisti l'effetto fu quello di riversare clandestinamente sul mercato dell'arte opere provenienti dagli scavi o più spesso pitture contraffatte che evocavano l'idea sfocata che i contemporanei avevano dell'antico indiscusso protagonista di questo negozio fraudolento fu senz'altro il falsario giuseppe guerra la cui figura e produzione sono oggi ampliamente definite e analizzate dalla critica i contenuti di derivazione prevalentemente letteraria o ispirati a incisioni che riproducevano le antichità di recente invenzione spesso erano accompagnati da iscrizioni indecifrabili che stimolavano la curiosità di potenziali acquirenti questo è il caso ad esempio degli pseudo geroglifici rappresentati sul frammento con pittura egittizzante conservato all'ouvre e derivati dalla ben nota mensa isiaca come peraltro tutte le iconografie sapientemente rimescolate nella composizione contraffatta viste dal falsario nelle riproduzioni grafiche custodite presso il museo kircheriano come bene esemplifica la vicenda del guerra che si premurava di offrire allo sprovveduto collezionista anche una storia sul fantomatico rinvenimento e sul trasporto del pezzo la redazione di una pittura falsa era calibrata sui principi di autenticità coevi attinenti alla tecnica esecutiva al contenuto narrativo allo stile al confezionamento in generale quali l'invecchiamento della superficie la presenza di fratture o la riproduzione di elementi decorativi che valicavano l'area dello stacco a suggerire che il frammento provenisse da una superficie più ampia quindi fosse stato staccato da un contesto originale di fatto il guerra dipingeva a tempera o ad olio sulla superficie di intonaci per lo più originali montati sul supporto di artesia quindi il procedimento era estremamente complesso accorgimenti questi che permisero di introdurre sul mercato dell'arte presunti tra virgolette a freschi campani realizzati ad encausto in un momento in cui era ancora molto forte il dibattito sulla tecnica della pittura romana percorsi da uno stile fortemente irriso della sensibilità coeva e distante dal dal gusto proprio della pittura romana basti citare a titolo di esempio due immagini che vedete nella slide la controversa musa di cortona o il dipinto di giove ganimede sul della cui autenticità si persuase persino il vinkelmann opere falsificate o contraffatte figurano anche nel novero di prestigiose collezioni di antichità esempi noti in letteratura sono l'affresco con guerriero armato proveniente dalla collezione di giorgio ortiz o le pitture della collezione campana oggi al louvre nel primo caso che qui vedete a sinistra della slide l'autenticità del dipinto è stata contestata grazie allo studio stilistico e al ricorso ad indagini archeometriche condotte sui pigmenti utilizzati e in particolare le analisi in spettrometria raman segnalavano per i campioni asportati del manto azzurro del guerriero spettri compatibili con un pigmento di sintesi verde la taglio cianina di rame commercializzato soltanto a partire dal 1940 ciò indica che l'affresco originario con sobria decorazione vegetale fu integrato con l'elemento figurato per incrementare il valore e l'appetibilità sul mercato spesso queste integrazioni sono attestate perché si aggiunge un plus al frammento nel secondo caso invece gli affreschi hanno mostrato integrazioni e ridipinture talora piuttosto invasive esemplificativi sono questi due quadretti dove si riconoscono nel primo un intonaco moderno in cui sono stati montati tre frammenti con volti maschili provenienti da contesti differenti e ai quali sono stati poi aggiunti altrettanti corpi stanti con mantelli e lance quindi la vera e propria creazione di un pastiche nel secondo invece una composizione con una sfinge un griffone e una piccola farfalla in cui solo una minima parte dell'intonaco è antica mentre il resto è stato dipinto nel diciannovesimo secolo e anticato mediante l'applicazione di una finta patina ciò premesso al fine di sondare l'attuale offerta nel mercato sono stati scandagliati come dicevamo prima siti web generici o di settore piattaforme di compravendita online cataloghi di case d'asta notizie di sequestri e recuperi di reperti pittorici da parte delle forze dell'ordine poiché a fronte della sempre più diffusa familiarità degli utenti del web con operazioni di consultazione acquisto di beni online è mutato anche il modo di commerciare l'arte si registra infatti soprattutto in questi ultimi anni lo sviluppo di un fiorente mercato di beni archeologici sia nell'ambito di piattaforme di compravendita online tra privati sia attraverso i canali di e-commerce più autorevoli e rinomate case d'asta tale la fortuna del mercato digitale da essere oggetto di intensificate operazioni di monitoraggio da parte del nucleo tutela patrimonio culturale dell'arma dei carabinieri e penso che anche proprio qui nella sede di venezia ci sia un interesse nei confronti di questa tematica lo studio di questi materiali lungi da essere un semplice esercizio di speculazione teorica permette al contrario di comprendere la tipologia di domanda l'apertura l'aspettativa degli acquirenti di capire come nel corso del tempo siano mutate le modalità di selezione e falsificazione dei manufatti in relazione alla sensibilità estetica e al sapere tecnico archeologico dei falsari e dei collezionisti come per altre classi di materiali la prassi ottimale per il riconoscimento di un falso è senz'altro un approccio di tipo interdisciplinare torniamo al tema dell'interdisciplinarietà che è anche quello che caratterizza le due giornate qui all'istituto veneto che combini le analisi archeometriche sui componenti dell'intonaco i pigmenti le pattine i tectorium cioè il supporto al più tradizionale studio tecnico stilistico iconografico dai caratteri della decorazione che in molti casi è l'unica via percorribile entrando ora nel merito di seguito vi presenterò una selezione di manufatti in cui sono rilevabili storture e misinterpretazioni nell'uso degli schemi iconografici degli attributi della composizione degli elementi in generale che insieme al diffuso ricorso a grossolane ridipinture e integrazioni rendono improbabili le figurazioni proposte pur nella consapevolezza che la sola osservazione per di più da remoto condotta dagli studenti dei nostri corsi di laurea ovviamente con il supporto mio della dottoressa brolli sbrolli non può che bastare non può essere un elemento che basta ad asserire l'originalità di un'opera tuttavia essa ci permette di individuare eventuali errori o anomalie e sicuramente di essere molto cauti il primo esempio è un quadro di provenienza ignota recuperato dal nucleo tpc dell'arma dei carabinieri e destinato al mercato illecito che riprodurre l'episodio mitico di frisso ed elle la composizione lo vedete a sinistra la composizione è coerente con le note attestazioni di ambito vesuviano tuttavia l'analisi dei personaggi e degli schemi compositivi induce a sospettare l'autenticità della pittura o quantomeno di parte di essa poiché sembrano ravvisabili pesanti quanto maldestri interventi integrativi che hanno finito per alterare e trasfigurare i tratti dei protagonisti nello specifico il del giovane frisso sono poco plausibili lo schema delle gambe in cui la sinistra non incrocia la destra come il modello canonicamente ammetterebbe la resa goffa del panneggio del busto e della testa e per quanto riguarda la giovane l risulta anomalo l'intero busto che emerge dalle acque nonché l'indicazione piuttosto insolita dei seni nel secondo caso si tratta probabilmente di due frammenti autentici ricollocati in un'unica composizione al fine di restituire un'immagine completa si scorge infatti una colonna descritta come in stile composito pertinente ad una quinta scenografica se osserviamo più attentamente il pezzo notiamo che il capitello e la base altro non sono che un capitello di ordine ionico e uno in stile corinzio e ancora considerando le diverse angolazioni secondo cui sono orientati si rileva che essi dovevano appartenere a due porzioni differenti della partitura decorativa il capitello ionico è inquadrato frontalmente mentre il capitello in stile corinzio qui impiegato a guisa di base della colonna è visto discorcio e mostra la porzione angolare dell'architrave sovrastante del quale si indovina anche si riesce a percepire l'alternanza di metobe e triglifi quindi un fraintendimento degli elementi nel momento in cui viene creata questa nuova composizione peraltro il pezzo acquistato nella nel commercio online nel novero degli affreschi contraffatti questo è fantastico alteramente adulterati rientra un piccolo quadro con per sé o vincitore su medusa qui la costruzione delle figure e del paesaggio nonché la caratterizzazione dei personaggi non paiono corrispondere ad alcuno dei molti esempi romano campani del soggetto mitologico e risultano piuttosto l'esito di una commistione di elementi desunti da modelli differenti il paesaggio sembra riproporre l'ambientazione della vicenda mitica come nel quadro di per sé andromeda la figura dell'eroe appare a sua volta una citazione grossolana del teseo liberatore proveniente anch'esso da pompei e infine interessante la testa di medusa che sembra addirittura un'improbabile copia della cerebellima medusa caravaggesca quindi veramente una fusione di suggestioni simili considerazioni possono essere anche avanzate per il quadro raffigurante artemide sequestrato presso l'agenzia delle dogane di livorno le analisi archeometriche a cui l'opera è stata sottoposta hanno evidenziato la presenza di un pigmento verde a base di zinco e una scialbatura di gesso a simulazione della dell'incrostazione in superficie fugando ogni dubbio sull'eventuale autenticità del dipinto tuttavia è anche l'indagine stilistico iconografica a fornire degli spunti interessanti per quanto riguarda la definizione del falso i modelli iconografici a cui la composizione si rifà paniono desunti da opere antiche piuttosto famose l'impostazione generale ricorda l'artemide cacciatrice dell'ipogeo di via livenza che qui vedete a destra raffigurata tra due cervidi del lato di estrarre una freccia dalla faretra a livello stilistico stridono la deformazione della mano destra della divinità dovuta probabilmente all'incomprensione del gesto da parte del falsario e la trattazione dell'animale sulla destra più simile ad una specie di renna che non ad una cerva lo schema iconografico adottato per la porzione inferiore della figura è invece quello della mazzone mattei dal quale il falsario attinge il dettaglio dell'orlo asimmetrico del chitone e l'attributo anche dell'arco elemento questo poi in realtà già integrato nel 1754 dal restauro di bartolomeo cavacetti un'altra particolare casistica e poi è quella che è attestata da altri frammenti d'intonaco oltremodo somiglianti a dipinti noti se non addirittura celebri questo è un caso interessante eccolo qui è il dipinto che qui vedete a sinistra con il satiro suonatore di cetra che replica alla perfezione i satiri funambuli della villa di cicerone a pompei staccati al momento dello scavo e ricomposti in un pastiche oggi esposto al man l'autenticità del pezzo è resa dubbia dall'attitudine del del soggetto mentre infatti ognuno dei satiri esposti al museo napoletano è colto in azioni peculiari e dotato di attributi propri il frammento in oggetto reitera pedisseguamente lo schema di uno degli esemplari accolti nel pastiche suggerendo quindi che non possa essere altro che una copia allo stesso modo è frequente il movimento di opere e oppure composizioni manifestamente ispirate a modelli celebri dell'antichità nel caso specifico questo veramente è una copia di qualità terribile però in questo caso è un affresco che riproduce colombi intenti ad abbeverarsi ad un bacile bronzo e in questo caso riprende chiaramente fin nel dettaglio l'insigne mosaico delle colombe rinvenuto nel 1737 presso villa adriana e quindi rientra insomma in una categoria veramente di falsi mal di qualità veramente molto bassa oltre alla conoscenza tecnico e storico artistica al momento di confezionare l'opera contraffatta un altro elemento che inconsciamente influenza le scelte stilistiche del falsario è senza dubbio il personale gusto estetico che sulla base della percezione soggettiva giustifica produzioni che sono percorse da una sensibilità che è incompatibile con il costume antico ed è in linea invece con il costume contemporaneo tralascio alcuni casi perché vedo che il tempo stringe ma mi soffermo soprattutto su quest'ultimo esempio che è molto divertente è un lacerto raffigurante una figura femminile volante interpretata come ninfa il pezzo venduto è quello che vedete a sinistra oltre ai dettagli poco comprensibili degli attributi è lampante l'incongruenza del drappo gettato sulla spalla della fanciulla con i due lembi svolazzanti e la foggia della tunica che è confusamente draffeggiata sul petto e aperta in un licenzioso spacco direi quasi secondo un paradigma di sensualità lontano dalla sensibilità romana che invece è espressa dalla nudità del tronco o delle sole spalle o mediante delicate trasparenze dei tessuti quasi fluidi avviandoci quindi alle conclusioni sebbene l'attenzione del presente contributo sia stata specificamente rivolta al tema della falsificazione è utile tracciare i caratteri generali del più ampio commercio di affreschi antichi o pseudo antichi emersi a seguito della ricognizione del mercato dell'arte in primo luogo l'esistenza di due mercati di differente livello qualitativo uno di alto profilo gestito da case d'asta di varia reputazione e caratterizzato da affreschi di maggior pregio estetico di provenienza dichiarata prevalentemente vesuviana e spesso contraffatti è un mercato anche però meno ambizioso contraddistinto dalla certi più modesti come vedete il caso del dell'immagine rappresentato dall'immagine a destra piccoli frammenti per lo più autentici ascrivibili a orizzonti cronologici anche tardi venduti a poco prezzo facilmente acquistabile su generiche piattaforme di e-commerce da privati o commercianti saltuari le provenienze dei pezzi nonostante l'opportuna documentazione di corredo non sono mai indicate puntualmente i dati appena esposti rivelano la particolare fortuna di questa classe di materiali e lo studio dei falsi come di tanti altre comunque classi di materiali archeologici lo studio dei falsi non si limita ad essere un dotto divertissement ma consente di delineare l'impatto diretto e potente che la circolazione di opere contraffatte ha sul mercato economico sul piano economico antropologico e culturale è dunque sempre più urgente trasmettere tale consapevolezza ai giovani che si affacciano al mondo dell'arte e dell'archeologia perché abbiano coscienza delle proporzioni di un fenomeno criminale attuale e vivacissimo e sviluppino attraverso la pratica un consapevole senso critico perché i falsi devono essere selviticardi appena sfornati quindi se abituiamo i giovani a stimolare quest'occhio critico facciamo una cosa buona grazie scusatemi sono andata oltre i 30 minuti grazie Monica Salvadori e mi complimento con lei e con il suo gruppo di lavoro per questo progetto che è assolutamente innovativo e che affronta una problematica utile anche sul piano sociale perché questa circolazione di falsi antichi è veramente altera anche il mercato e secondo me alcuni aspetti saranno poi oggetto di discussione perché affronta mi è piaciuto molto il fatto che all'inizio abbia affrontato il concetto di falso il povero autore della tiara di Seitaferner non aveva nessuna intenzione di fare un falso ma un'opera all'antica allora il falso inizia quando c'è la volontà di truffare il prossimo ma ne parleremo più avanti adesso mi pare che l'istituto veneto ci offra un caffè sbaglio lo facciamo facciamo adesso si forse facciamo adesso apriamo adesso la discussione allora sulla prima relazione sulla quella di apertura di Gior Antonio Stella che ci ha fatto questa panoramica straordinaria di fake news storiche con alle volte con gravissime conseguenze ci sono domande grazie una domanda diciamo falso ingenua ma questi falsi che lei ci ha illustrato e ha anche visivamente sono sempre segnalati voglio dire Giove Ganimede a Barberini è segnalato come tale grazie no no certo quelli storici sicuramente hanno sono noti sono noti tutta la prima parte diciamo del contributo si è focalizzata su casi che sono stati ampiamente messi inviati dalla critica ma insomma comunque mentre l'ultima parte nasce dalle riflessioni dal fatto che concretamente ci troviamo di fronte a lavorare su pezzi che provengono da collezioni private non abbiamo documentazione circa la provenienza e quindi a quel punto sì dobbiamo cercare di sviluppare al meglio un'analisi di tipo una diagnostica che chiamiamo diagnostica umanistica perché molto spesso poi le indagini archeometriche sono molto costose e in tanti casi già da un dal nostro insomma un'analisi di tipo diagnostico che nasce dalla dalla conoscenza storico archeologica dei pezzi possiamo arrivare a dire che non c'è autenticità quindi quindi a questo punto è anche inutile spendere soldi per fare le analisi archeometriche al di là dell'aspetto scientifico voglio segnalare che queste tutte queste cose che denunciato adesso professoressa sono la croce dei carabinieri della tutela perché loro trovano denunciano i carabinieri denunciano e poi la cosa finisce come versare un cucchiaino nell'oceano perché anche quando riescono a individuare i ladri o penso alla tomba del gladiatore che è stata trovata vicino a fiano rovano anche quando riescono a trovare i ladri sapere che è stato eccetera eccetera poi perché questi vanno in galera a campacavallo c'è un solo che io sappia chi mi collegge è benvenuto che io sappia c'è un solo trafficante svizzero il più famoso di tutti che finito in galera però per pochissimo tempo e poi è stato scarcerato cioè non c'è verso di dargli una punizione esemplare e questo è un problema enorme che purtroppo svuota il lavoro fatto da persone come la professoressa salvadori che si danno l'anima tutti i giorni da questo punto di vista inutilmente mi scusi ancora allora visto che si è entrati in questo argomento è noto che esistono fondazioni dedicate a pittori soprattutto contemporanei o viventi o deceduti insomma che però svolgono spesso attività quantomeno discutibili perché riconosce sembra che pare che riconoscano o no l'autenticità di un quadro a seconda e in proporzione con diciamo gli effetti economici che deriverebbero a loro da questa da queste autenticazioni grazie questo è un problema che coinvolge anche il funzionamento della giustizia della giustizia in italia perché quando lui dice che appunto non si riesce a dare una punizione esemplare questo deriva dal fatto che forse la giustizia in italia non funziona così bene ma quello che ha trovato che ha trovato sul lago mi pare di neppi adesso non ricordo esattamente dove come dire il trono di caligola quello lì l'aveva smontato messo su un camion per portarlo via neanche quello l'ha pagata neanche quello l'ha pagata stava portandosi all'estero smontato il trono che aveva trovato arrivando per una volta purtroppo tante volte succede prima degli archeologi sì no su questi devo dire che i carabinieri stanno facendo comunque tantissimo e in particolare nel prima del covid quando deve sempre collocarlo prima o dopo no nel 2019 tra 2018 2019 ci furono una serie di conferenze che il il nucleo dei carabinieri realizzò in varie sedi italiane dove appunto c'erano anche ci sono le sedi del nucleo tutela patrimonio culturale e l'ultima conferenza venne organizzata a Roma e fu un po' la la conferenza in cui misero un po' insieme tutti questi dati e stanno facendo veramente tantissimo quello che manca è proprio la relazione con loro per cui in effetti sia noi a Padova ma anche l'università di Roma 3 con la professoressa Calcani stanno lavorando tantissimo in questo senso proprio studiando il falso cercando di mettersi in comunicazione con i carabinieri proprio per raggiungere insieme l'obiettivo di cercare il più possibile di limitare questo sì qui è importante diciamo l'educazione a comprendere il falso perché il falso nasce dal commercio di antichità se non ci fosse un commercio così selvaggio probabilmente anche i falsari si placerebbero quindi educare al falso secondo me importante c'era Ernesto Carafoli e dopo trovo dire subito la parola e poi c'era parla parla vala Ernesto ah sì volevo dire che ho trovato ben due relazioni molto stimolanti e molto interessanti ho imparato molto mi domando però se siccome il convegno sul vero e falso se non serve più semplice dire autentico o non autentico perché quello di cui avete parlato sia Stella che la dottoressa Saracoli ha parlato di autenticità o non autenticità se volessero forse fare uno sforzo e provare a definire il concetto di vero e di falso il senso filosofico potete farlo? Sì questo assolutamente sì comunque il tema della terminologia effettivamente è un aspetto che su cui poi non ci troviamo mai in accordo con proprio anche le definizioni italiane rispetto all'inglese rispetto al francese per cui effettivamente dal punto di vista filosofico che le sfumature del falso sono tantissime sono tantissime e tanti tanti colleghi filosofi hanno hanno lavorato proprio su questa su questa tematica che cosa è falso cioè che cosa la coppia e quando è dichiarata tale cioè falso è ciò che praticamente ha l'inganno c'è la frode sostanzialmente la volontà di ingannare questo è il falso no 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 assolutamente no è un concetto filosofico come dici tu ci vuole un filosofo che abbia competenza diciamo che su che cosa corrisponde a vero e falso secondo me le due relazioni erano d'accordo c'era la falsificazione era qualcosa che voleva ingannare per vari motivi lei per motivi economici Gian Antonio Stella per motivi... c'è una cosa però in più che oggi se tu fai delle analisi scientifiche con tutte le ricordi puoi stabilire se quell'incrosto lì è stato posato da 500 600 mille anni o se quel pezzo là è stato scolpito o quando su alcune cose è più complicato perché quando quando lorenzo valla arriva a stabilire che è falso il testamento di costantino lì non può esserci nessuna prova perché ammesso che ci fosse davvero una cosa scritta dentro queste cose poteva essersene inventata un papa in che epoca boh ottavo secolo nono boh ma come se non hai in mano il documento puoi andare solo per come ha fatto lorenzo valla per prove come dire insite cioè come i nomi di costantinopoli che non c'era la data non tornano questo non torna questo non torna questo non torna ma per presto arrivare a dire che probabilmente è un documento falso però le prove che vengono chieste in una corte penale per dire se ci fosse un processo vero su questa cosa qua lei mi risponda credo che chi ha fatto il falso sarebbe assolto per mancanza di prove per insufficienza di prove cioè non è così facile autentico non autentico boh alcuni casi ma si può andare bene quella definizione però il falso deve avere la volontà di frodare ci deve essere un'azione che vuole frodare beh questo c'è in tutti però secondo me questo c'è in tutti cioè quando uno fa un falso lo fa per uno scopo preciso può essere uno scopo che magari sembrava positivo al papa inventarsi il testamento la donazione di costantino però in linea di massima sono sempre sono sempre cattivi i moventi cattivi e a volte veramente feroci perché i documenti portati dalla di Francia per scatenare la caccia i lembrosi sarebbe interessante averli per poterne discutere meglio al di là delle questioni filosofico semantiche sono molto grato all'istituto per aver promosso questo convegno che è un convegno vedo multidisciplinare perché come diceva la professoressa Salvadori il problema è enorme e coinvolge non soltanto chi fa il falso o il non autentico ma coinvolge anche chi il compra perché credo che sia molto importante e questo viene affrontato sicuramente qui a Padova la psicologia del collezionista e di chi è disposto a scuscire 25-35 mila pounds per una roba molto volgare diciamoci francamente che anche all'occhio di un laico come posso essere io insomma gli avrei dei problemi a comprarlo per mille pounds non dico 35 mila pounds per cui credo che sia molto importante anche scandagliare a parte i piani legali a parte i piani diciamo così delle indagini di riconoscimento dei pigmenti le indagini iconologiche tutto quello che vuole sia molto importante indagare anche questo aspetto della psicologia del collezionista grazie grazie perché in effetti questo è un aspetto a cui teniamo moltissimo e abbiamo citato prima il caso del Getty Museum quindi in quel caso era la psicologia del museo stesso che voleva assolutamente ci teneva tantissimo ad avere questo pezzo pazzesco e così però in altri casi noi abbiamo visto invece i privati i collezionisti privati allora intanto è difficilissimo allora in alcuni casi abbiamo ancora la fortuna di poter dialogare col collezionista in altri casi come quello del collezionista che era proprietario del carro pseudo etrusco purtroppo non abbiamo più la possibilità di poter interloquire e i familiari non sono mai tanto aperti a raccontare le motivazioni che stavano alla base di una collezione che in effetti riempiva la casa di questo collezionista aveva proprio deciso di arredare qualsiasi angolo del suo appartamento con pezzi ispirati al mondo al mondo greco e quando vai a capire perché comprano perché in alcuni casi in effetti c'è c'è un momento particolare della vita c'è una ci sono questioni proprio di perdite affettive ad esempio per cui allora molti di queste persone hanno cominciato a collezionare in quel momento in un altro caso abbiamo avuto la possibilità di aver un collezionista invitato presso una delle nostre eventi che avevamo organizzato ancora tre anni fa il quale credeva di avere dei pezzi autentici che invece erano indubbiamente tutti falsi addirittura erano copie secondo noi erano copie di pezzi famosi e abbiamo cercato di fargli capire che comunque la sua collezione aveva un significato perché a lui piacevano questi oggetti per cui aveva per lui personalmente poteva avere un valore non c'è stato verso cioè lui da quel momento lì poi non ci ha più parlato non ha più voluto avere contatti con noi perché avevamo dimostrato anche proprio facendo una lettura iconografica di dettaglio di tecniche che erano tutti pezzi falsi non autentici velocemente perché poi il tempo cambia ma insomma volevo chiedere a Stella ma io tutto sommato trovo più ragionevole la motivazione bieicamente economica cioè questo vuole guadagnare dei quattrini con dei falsi eccetera ma esiste una una parete dell'infamia in cui tutti i falsi invece propagandistici come quelli deliziosi che ci hai mostrato sono in qualche modo esposti e noti no c'è stato un professore dell'università di Salerno che ha fatto anche un museo del falso era anche un museo molto bello purtroppo adesso è stato rimosso e scatolato da qualche parte e lo stesso questo stesso professore universitario ne ha perso le tracce però io credo che appunto soprattutto in questo in questi anni di fake news a livello planetario no cito che ne so la notizia passa sul sui social che Papa Francesco aveva fatto un endorsement a favore di Donald Trump che si tu era vai a trovarlo sparito e quell'altro viene fuori che aveva fatto si era esposto per Trump che ne so per Tom Hanks che si tu era vai a cercarlo sparito si aveva saputo che un giornale americano mi pare mi pare di Chicago ha dovuto pubblicare sul proprio giornale un giornale vero la notizia che un altro episodio come questi cioè un endorsement in favore di Trump pubblicato era stato storpiato e era stato mezzo dentro spostando semplicemente una lettera nel collo e ce l'hanno cascati tutti se questo si inserisce in un contesto come il nostro in cui la parola verità è finita addirittura nell'enciclopedia britannica come parola dell'anno e parliamo dell'anno in cui Trump fu eletto avete idea perché nei bar del Kentucky piuttosto che nelle billerie del Colorado la reazione qual è? tanto scrivono tutti quello che vogliono perché devo fidarmi nel Washington Post invece che di fidarmi di una cosa che mi racconta il mio sito preferito che mi racconta tutte le cose che piacciono a me in questo contesto credo che ci sia stata pochissima riflessione questo convegno qua è una rarità io devo dire che avete avuto un'idea fondamentale ma perché non se ne parla non se ne parla ci sono giornali caserta sera che esce con la notizia che una mamma denuncia magistratura perché ha impedito il figlio di essere vaccinato e il figlio è morto allora un cacciatore di fake Michelangelo come si chiamano ricordi di Bufala no scusate del sito Bufala tanto al chilo mi pare che si chiami chiede ma dove è successo come si chiamano il giornale non risponde insistono e non risponde insistono ancora e non risponde finché risponde questo giornale dicendo che non riuscivano a ritrovare quello che avevano letto in un giornale rumeno e non italiano che aveva che di cui abbiamo perso le tracce cioè in un mondo in cui si fa giornalismo in questo modo io credo che i dibattiti come quello di oggi dovrebbero essercene cento volte di più ma non è così comunque aspettiamo un libro di Gian Antonio Stella sul falso sarò rapidissima perché magari il tema verrà ripreso nelle prossime relazioni innanzitutto vi ringrazio per le bellissime bellissime interventi mi riallaccio al penultimo intervento in effetti falso non è che ha una definizione perché si dice in molti modi perché dipende a cosa ci riferiamo l'oggetto la notizia o anche i meccanismi psicologici sono diversi che sono sottesi alla definizione infatti nelle due relazioni si fluttua abbastanza tra notizia falsa e documento falso che sono notizia falsa e documento falso in piedi sono due cose competitive sì perché afferiscono a due sfere di interesse diverse i meccanismi psicologici diversi e hanno anche un impatto emotivo diverso per questo mi chiedevo se potreste parlarne un po' di più o se magari appunto verrà affrontato diversamente perché faccio l'esempio personale magari ho visto un mesetto fa il suo documentario sul Polesine che l'avevo studiato quindi pensavo di conoscerlo però quando ho visto le immagini ho avuto una percezione diversa di quello che è accaduto quindi la produzione per esempio di filmati falsi dà un altro risultato stessa cosa l'oggetto come ha parlato la professoressa per esempio il famoso film di Tornatore la migliore offerta che c'è l'automata di Vaucanson e quindi man mano che lui tocca gli oggetti ci crede sempre di più se gli avessero riferito soltanto la notizia che c'era ancora una macchina di Vaucanson era diverso da toccare i vari pezzi quindi vi chiedevo se è possibile riflettere un po' di più tra questa differenza qual è la responsabilità di giornali in sostanza ho capito male perché sono l'apparecchio sono sordo come una campana professoressa ripeto io no 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 diceva sempre di riflettere giustamente mette in evidenza questa questa diversità tra ciò che è la notizia e ciò che è l'oggetto ma sicuramente la responsabilità c'è da parte di chi di chi studia io sono un archeologa per cui la responsabilità di dover cioè allora da un lato la responsabilità di denunciare i falsi perché o di farli vedere di metterli di sbandierarli questo va assolutamente fatto cioè è un dovere che abbiamo e questo intervento fatto appunto con gli studenti ha avuto proprio significato di far vedere ai giovani quanto questo fenomeno esiste e quindi e quindi da un certo punto di vista ritengo che già nel progetto noi abbiamo portato avanti questa cosa è stato positivo ma la responsabilità delle ricostruzioni come archeologi tanto spesso arriviamo a ricostruire aree monumenti edifici perché il pubblico vuol capire com'era fatto un edificio che magari è conservato in maniera frammentaria o com'era un'area archeologica quindi la responsabilità della ricostruzione anche nel virtuale per esempio è altissima no? non so se era questo che voleva ma c'era un no ma si allargava se ho capito bene un po' tutto la responsabilità di raccogliere delle cose false e passare anche ad altri sì no no ma secondo me i media hanno delle grosse responsabilità in questo cioè il film prima di cogliere una notizia e di buttarla lì che poi diciamo facciamo sempre tempo a correggere domani e no questo non è così bisogna starci molto pertenti prima e su questo c'è una responsabilità che credo effettivamente forte da parte dei giornali non solo sulle cose come dire pecorecce perché su quello ormai si legge veramente di tutto di tutto è in modo inaccettabile che poi tocca la vita delle persone e questo non può esistere ma anche su temi non so se più seri o meno seri ma sicuramente importantissimi come questi che ha trattato oggi la professoressa certo secondo me è ancora un mea culpa di tanti soggetti a partire se posso dire la mia dal Parlamento che non è mai intervenuto in un dibattito come questo che è vecchio come il cucco perché Fabio Isman ha cominciato a parlare di queste cose nei suoi libri e sui giornali tanti anni fa davvero tanti anni fa però correzioni legislative su questo tema non le abbiamo mai viste io non so chi sarà il prossimo domani di cui la cultura abbiamo tutti la pelle d'oca con quelli che stanno uscendo però devo anche dire che quelli che sono stati già ministri della cultura non ha lasciato insomma diciamo tutti un buonissimo ricordo e non solo la come si chiamava la siciliana di Alcamo quella delle borzette la Bono come si chiamava Bono Parrino forse dico la sciocchezza non ricordo più allora chiedo scusa direi facciamo un'ultima Ernesto Carafoli che chiedeva di nuovo velocissimamente senza risposta tu fai la domanda e noi non tiriamo la risposta per dire che sono sono un poco confuso vediamo se riuscite a chiarirmi la confusione si è parlato solamente di arte finora ti faccio un esempio non solo no la stella quasi soltanto di arte tutti sappiamo che Cezanne ha dipinto circa 60 volte il monte di Santa Vittoria giusto? bene allora l'ha dipinto in 30 anni di questi dipinti sono tutti autentici presunti Cezanne ammettiamo che un contemporaneo di Cezanne faccia un monte di Santa Vittoria è un falso per definizione o lo è soltanto perché l'ha fatto lui e non Cezanne è un falso per definizione allora la confusione dipende da questo no? se è meglio di Cezanne perché deve essere un falso vabbè questa sia una questione filosofica effettivamente è una copia un conto è la copia un conto è la copia comunque che fa la domanda e non diamo la risposta la risposta è la prossima puntata adesso intanto prendiamo il caffè allora allora io quasi quasi ricomincerei perché abbiamo visto che poi la parte della discussione è molto corposa e quindi do la parola con grandissimo piacere a Giampiero Brunetta che è professore merito di scienze della cinematografia massimo esperto della cinematografia che ha appena pubblicato uno straordinario libro di queste dimensioni che è dedicato alla alla storia del cinema della mostra del cinema di Venezia dal 1932 al 2022 e che ci ha appena fatto glielo dicevo adesso una stupenda lezione affascinantissima che ha ripercorso questa questa esperienza straordinaria della mostra del cinema di Venezia per cui siamo qui che non vogliamo assolutamente ascoltarlo e gli do la parola per cominciare la sua relazione grazie ancora cent'anni fa Paul Valéry ha scritto che il cinema è falso attraverso il vero in effetti i fratelli Lumière già nei filmati della serata del 28 dicembre del 95 che segnano l'inizio della storia del cinema organizzano il racconto della sortie des ouvriers des usines Lumière del Lyon secondo una precisa scansione ripetuta più volte per ottenere il massimo effetto di spontaneità una perfetta messa in scena che nessuno è in grado di avvertire in quanto coincide esattamente con la realtà quotidiana e la percezione che l'occhio della macchina da presa si limiti semplicemente a registrare le cose nel loro accadere anche tutta la mitologia del neorealismo è costruita sulla spontaneità però sappiamo ormai da ricerche più approfondite che per esempio Rossellini ha ricostruito in viaggio in Italia a Maiori in modo perfetto ai primi di aprile la processione della festa dell'assunta che con tutti i figuranti che vengono pagati mille lire l'uno insomma il 15 aprile però la sensazione è che sia ripresa dal vero la cemola osservare con uno sguardo d'insieme la storia del cinema per indagare le diverse modalità in cui si manifesta il tema del vero e del falso è come stendere vaste zone dell'inconscio novecentesco di più continenti su un lettino psicanalitico e leggerne e dedurne un'interrotta serie di segni indicatori per il presente il falso cinematografico vi è distribuito in modo equo tra documentari e cinema di finzione fin dai primi passi ne costituisce uno degli elementi o alimenti creativi onnipresenti di tipo tematico narrativo e legato alla struttura e natura stessa del film per sua natura ontologicamente vorrebbe da dire il cinema falsifica e reale creando inganni visivi sonori verbali in ogni momento della sua storia e in ogni sguardo spacciato come neutro di fatto viviamo nell'era del falso to fake or not to fake this is the question potrebbe essere un buon motorale del presente non solo nel senso cinematografico del principio che tutto ciò che dice l'altro il tuo avversario o chiunque non la pensi come te è falso viviamo nell'epoca delle apparenze della riproducibilità tecnica delle coppie fasulle di qualsiasi cosa del parmigiano falsificato fino alla Ferrari della manipolazione delle notizie delle false promesse elettorali un'epoca in cui la falsificazione e le forme e manifestazioni del falso nella vita politica diplomatica istituzionale come in quella culturale scientifica nei mass media e nelle interrelazioni personali sono così diffuse da apparirci più come elemento negativo come un bene rifugio da quotare in borsa e rendere quasi rilevante la ricerca e il riconoscimento della verità e dell'autenticità dei dati il falso è come il nostro pane quotidiano spesso agisce su di noi con un effetto placebo curandoci molti mali e apparendoci come una realtà familiare e tranquillizzante nei decenni ci siamo lasciati alle spalle è stato celebrato il look il gioco dell'apparenza e la falsificazione di tutti gli status symbol la ricerca di nuove identità si è visto il trionfo della chirurgia plastica del lifting e come di fronte al martellante bombardamento al corpo da parte in mass media il reale vacillasse comunque diventasse secondario conosce nella fisonomia la natura vera il concetto stesso di identità sessuale sta cambiando così come abbiamo la sensazione di procedere grazie ai progressi della chirurgia verso una condizione postumana che le teorie di Darwin non avevano previsto oggi in tempi di covid le stesse mascherine che siamo costretti a indossare aiutano a rendere meno identificabile con certezza la nostra identità già compromessa del nostro semplice essere nel mondo ma oggi il falso è tornato a essere un'arma politica offensiva che può servire da supporto e giustificazione a qualsiasi mossa sulla scacchiera mondiale un'arma degli affetti imprevedibili ma a cui si fa ricorso immancabilmente quello che è da studiare oggi e gli esempi che abbiamo sotto gli occhi ogni giorno sono molti è una strategia dell'inganno diffusa ed ugualmente distribuita nelle diverse forze in gioco per orientare a proprio favore le opinioni pubbliche divise ad esempio dai conflitti nato il cinema è stato il luogo per eccellenza di fabbricazione del falso lungo tutta la sua storia in tutte le sue forme tutto ciò che appare può essere falsificato semplicemente restringendo il campo della visione modificando il suono aggiungendo una voce fuori campo a certificare il visibile temi trame ordito intrecci narrativi il falso corre lungo tutte le strutture portanti del racconto cinematografico ne ispira il senso interrompe i rapporti tra significante e significato mette sotto scacco la stese dello spettatore effettua diversi giochi illusionistici nei suoi confronti quando non lo chiama a cogliere dall'esterno la costruzione dei vari tipi di falsificazione sul semplice piano narrativo si può esplorare a più livelli studiando il vero e falso nella recitazione il motivo del doppio delle apparenze delle realtà artificiali degli inganni e trabocchetti visivi della creazione universi paralleli più veri del vero entro cui i protagonisti possono essere risucchiati come nei romanzi di Murakami Aruki dal punto di vista di nodi e intrecci il falso sullo schermo riprende e riassembla motivi che risalgono ad esempio per il motivo del doppio fino ai menekmi di Plauto attraversano il teatro nascimentale e settecentesco e metabolizzano temi dei romanzi ottocenteschi da Poe a James da Wilde da Kipling o novecenteschi da Pirandello a Stephen King al di là delle apparenze nulla garantisce che ciò che l'occhio cinematografico registra sia lo specchio e la riproduzione fedele della realtà e il falso nel cinema di finzione moltiplica le sue caratteristiche in modo da comprendere e da sorprendere di continuo e fino all'ultimo momento si va dalle doppie identità del dottor Jekyll e Mr. Hyde a Zorro a Superman all'Uomo Ragno all'indistinguibilità tra sogno e realtà alla rappresentazione del doppio al perfetto scambio di persone alla costruzione del falso in arte o alla celebrazione di falsari come protagonisti di Mirabolanti Implese o allo svelamento finale di identità multiple sì veniva citato prima il film di Tornatore su cui si mantiene incertezza assoluta fino alla fine this is a film about treachery fraud about lies con queste parole di una voce fuori campo inizia F for Fake di Wells del 73 di autore e film che affrontano i meccanismi del vero e falso il cinema abbonda dai primi passi da Feyad a Stroheim da Lubitsch a Hitchcock da Fellini a Berman da De Palma a Tornatore fino a Egoian di Remember alle più recenti serie televisive penso a Squid Game o a Better Call Saul parlando di cinema interessa certo per una buona costruzione del vero e del falso la funzione primaria dell'entertainment del delectare ma quello che vorrei mettere a fuoco è l'uso del falso per nascondere a capovolgere il senso di un vero su cui forse non siamo stati capaci di tenere ben aperti gli occhi ma che possiamo percepire solo in un secondo tempo prendendo le giuste distanze intendo cercare di combinare due ottiche una relativa a un caso di cinema di finzione in cui il falso sembra definire il serial e costituirne un motore che investe ogni elemento significante e genera un modello dinamico che si tende fino alle presenti serie delle piattaforme e una seconda capace di affrontare tre casi esemplari i cui effetti mi sembrano riproducibili e aver ricaduto in modo drammatico anche nel presente e la cui verità e falsità possono ancora tragicamente essere oggetto di discussione e di uso pubblico nei serial di Freyade penso soprattutto alle vampire di cui parlo nulla è come appare l'ambiguità definisce il rapporto tra significante e significato l'identità dei personaggi è negata una dieci cento mille volte in pratica ad ogni cambiamento di scena è come se un mondo familiare senza mutare per nulla il suo aspetto ne rivelasse all'improvviso un altro il suo interno più inquietante e misterioso e del tutto antitetico basta una qualsiasi scena o gesto oggetto per distruggere e rimettere in discussione i modi comuni del vedere in una qualsiasi festa i camanieri sono finti le bevande drogate le finestre si chiudono in modo ermetico dall'esterno e trasformano le stanze in camera a gas la banda dei malfattori che da nome alle serie ovunque contamina lo spazio contribuisce a trasmettere soprattutto in un periodo come quello della prima guerra mondiale quando il serial si afferma in Francia il senso di una guerriglia diffusa che moltiplica in modo indefinito la sensazione di terrore quotidiano a cui pare impossibile sfuggire vero e proprio transfert delle prime consistenti grandi paure politiche collettive le vampir non è altro che il tentativo di dar corpo a fantasmi ideologici circolanti e interpretare l'attività di presenze sconosciute e temute gli anarchici da parte dell'opinione pubblica borghese il serial è tutto giocato sul principio iperbolico del travestimento dell'ingannevolezza delle apparenze della sensazione emergente nella borghesia della paranoia urbana della dissociazione ideologica del terrore per l'avanzata inesorabile di forze oscure capaci di travolgere ogni valore e ogni barriera protettiva lo shock si trasmette in modo uniforme subito nel primo episodio vediamo un uomo mascherato che si aggira per i tetti scivola lungo le grondaie si arrampica per le carne fumarie entra nei camminetti esce dalle finestre la banda agisce in calzamaglia mentre il capo e il suo assistente si travestono con trucchi che li rendono irriconoscibili ad ogni apparizione a questo gioco in mascheratura continua non sfugono né il protagonista né i poliziotti ci si accorge che non si può essere sicuri dell'identità di nessuno anche di nessun oggetto basta alzare il coperchio di una tomba e anziché il morto si scopre la porta di una prigione sotterranea la cassaforte è quasi sempre priva di fondo e appena vi si posa un oggetto dall'altra parte appare una mano che se ne impadronisce da un armadio può uscire come minimo un cadavere impacchettato da un cassetto una testa tagliata in qualsiasi scompartimento il cacciatore di farfalle il signore con la barba o il prete possono essere un poliziotto un membro della banda dei vampiri o il protagonista in certi guai certo qualcuno è destinato a fare poca strada dopo poche centinaia di metri può capitare che la dolce ragazza che ha preso posto di fronte al viaggiatore con una mossa di karatè gli spezzi la colonna vertebrale e senza alcun complimento lo getti dal treno ogni strada di periferia diventa il luogo ideale per un rapimento ogni carrozza ogni bicicletta che entra in uno spazio è certo portatrice di pericolo le pillole non sono di veleno ma di sonnifero le pistole sono cariche a salve nella banda agisce un infiltrato che come un deus ex machina salva l'eroe in più momenti di difficoltà ed eccoci ad alcuni casi esemplari questa volta tratti da documentari costruiti all'interno dei grandi regimi dittatoriali del novecento fascismo nazismo comunismo con lo scopo di una falsificazione totale della realtà a scopi propagandistici il primo caso un esempio di falsificazione come dilatazione ipertrofica dei dati reali a scopo glorificante gli altri due intendono occultare il vero e sostituire la tragica realtà infernale con una rappresentazione edulcorata e paradisiaca della realtà stessa nel 1933 viene prodotto negli Stati Uniti dalla Columbia Pictures la casa di produzione di Franca Apra e realizzato dal giornalista Lowell Thomas un documentario dal titolo Mussolini Speaks distribuito in tutti gli Stati Uniti si pensa anche ad un concorso in cui chi risponde a determinate domande possa vincere un viaggio transatlantico per venire in Italia a conoscere Mussolini iperbolico per l'ammirazione nei confronti del dittatore italiano e per i dati forniti in cui tutte le voci sono inattivo per quanto riguarda la politica sia politica interna che estera l'economia lo sport lo sviluppo industriale l'assistenza sociale si ha quasi l'impressione dal momento che Mussolini sovrintende alla costruzione del documentario che il dittatore abbia voluto firmare il proprio monumento Manciranum cinematografico tutti i conti sono tornati inattivo in Italia nei primi anni 30 e tutte le promesse del discorso di Mussolini si sono tramutate infatti la disoccupazione è scomparsa l'economia è in pareggio dallo Stelvio alla Sicilia l'Italia è tutto un cantiere edilizio ferroviario industriale ponti strade tunnel centrali elettriche dighe transatlantici stazioni ferroviarie villaggi città tutto nasce e si realizza in tempi rapidissimi grazie alla volontà Mussoliniana Mussolini che qualcuno oltre che a Cesare Augusto Napoleone anche a paragonato a San Francesco è in grado di fare miracoli e appunto su due miracoli volevo portare porto la vostra attenzione ad esempio quello di far risorgere in meno di 40 giorni un paesino dell'Irpinia distrutto dal terremoto o ottenere la sostituzione di un porte ferroviario in Sicilia in 48 minuti il tempo di passaggio tra un treno e l'altro perché i treni non devono subire ritardi intendo ora mettere a confronto un documentario di propaganda sovietico del 27 Sloan con uno nazista diretto da Kurt Gerron il Führer dona una città agli ebrei che ho già fatto vedere a febbraio di quest'anno per la giornata del ricordo con due racconti simili nella struttura che perseguono lo stesso obiettivo la falsificazione del materiale rappresentato a fine propagandistici e di contropropaganda la creazione di una realtà del tutto falsa raccontata girando in ambienti veri e con protagonisti ripresi mentre eseguono dal vero le loro attività quotidiane questo tipo di documenti cancellati rimossi per più di 60 anni usano i detenuti come attori costringendoli a recitare nelle parti in una vita fittizia che nella realtà non hanno mai vissuto e che nel caso del lager nazista verrà annientata alla fine delle riprese per esempio il falso proveniente dei materiali dell'unione sovietica non è mai stato del tutto sdoganato osservato nella sua costruzione e nei suoi effetti il cinema sovietico aveva già sperimentato e costruito dei moduli durante la prima guerra mondiale su come raccontare la vita ai prigionieri di guerra addolcendola e creando materiali rispettosi dei protocolli delle convenzioni di Ginevra che avevano portato alla creazione della croce rossa pochissimi in realtà sono i documenti che raccontano e testimoniano la vita nei gulag sovietici rispetto a quelli dedicati ai campi estermini o nazisti che superano invece il numero il 500 Sloan girato nei lager delle isole Solovki racconta in sette capitoli il processo di detenzione e riabilitazione grazie al lavoro e purificazione politica ideologica dei prigionieri e con molta probabilità viene fatto girare in Europa dove alla fine degli anni 20 hanno cominciato a circolare le voci sui campi di concentramento comunisti e gli Enning a firmare nel 23 quindi ben prima di Stalin un decreto d'apertura ad un campo che al tempo stesso luogo di lavoro è campo di concentramento dove sono condotti i nemici di classe della rivoluzione i Solovki sono attivi dal 23 al 38 a differenza dei film sull'olocausto non si vede in questo film del 27 alcuna immagine che faccia minimamente supporre o pensare all'atrocità dei trattamenti subiti ciò che colpisce è che tutti i personaggi sono colti nell'atto di sorridere mentre lavorano o partecipano a qualche attività culturale tutti sono obbligati a interpretare una parte che nasconde l'atrocità del reale quando viene proiettato a Mosca Sloan provoca nello spettatore proletario un effetto non previsto questo film non può essere mostrato dice un operaio guardate quello che accade nello stesso momento noi facciamo delle code a Mosca per il lavoro con i nostri figli affamati e voi ci mostrate tutti questi contro rivoluzionari e questi criminali che se la spassano quando viene diffuso in vari paesi d'Europa il film è attaccato con violenza perché nasconde molte verità a partire dal fatto che la metà dei prigionieri muore di febbre tifoide o dissenteria gli attacchi provengono da così varie parti che il partito decide di richiamare in patria lo scrittore Maxim Gorky e affidare alla sua autorità una testimonianza attendibile e certificata della condizione della vita nelle isole Solovki lo scrittore accolto in maniera trionfale e la sua percezione delle cose è così edulcorata che all'indomane della sua visita così scrive alla fine a me sembra che campi come i Solovki sono necessari è un modo per lo Stato di raggiungere uno dei suoi scopi quello di abolire le prigioni l'ultima parte del film racconta la vita quotidiana e il presente radioso dei detenuti è quello che vi faccio vedere adesso ciò che viene rappresentato accanto al lavoro è il tempo libero che i detenuti hanno disposizione per giocare a scacchi praticare sport avere una vita culturale associativa stampare giornali andare molto a teatro e concerti si racconta e mostra come vengono pubblicati due giornali è attivata una biblioteca sono allestiti diversi spettacoli teatrali viene creata un'orchestra un coro quanto al lavoro viene rappresentato nel suo aspetto riabilitativo e di collaborazione al progresso del paese i detenuti sono impiegati per il disboscamento vedete qua fanno attività sportive il disboscamento delle isole per fornire materia per il riscaldamento e immaginare piani per l'estrazione della sorba i solovchi entrano a far parte del bilancio dell'economia staliniana ogni anno si riunisce una commissione che decide di liberare i detenuti comuni perché del tutto riabilitati così il film si conclude con un happy end del ritorno a casa di alcuni detenuti con l'imbarcazione che tempo prima li aveva condotti nell'isola e qua vediamo appunto tutti i divertimenti che sono messi che sono consentiti loro lo sport il nuoto le piscine le attività sportive le vedremo anche nel documentario nazista vedete possono questi sono gli attori che si preparano e quindi hanno ragione gli operai di Mosca a protestare vedendo queste immagini assolutamente idilliache di gente che sta bene che vive bene un'ora e mezzo di documentario che viene poi distribuito anche in tutta Europa suscitando però non pochi dubbi c'è anche una proiezione concerto ecco sì possiamo forse fermarci qui vedete comunque come applaudono nel 48 Alfred Rado con regista boemo racconta per primo in un film che si chiama strada lontana l'orrore quotidiano nel campo di sterminio di Terezin la cittadina in forma pentagonale fatta costruire dall'imperatore Giuseppe per la madre una città fortezza nata per ospitare 6.000 persone che ne avrebbe invece rinchiusa nel 42 60.000 di cui 15.000 la bambini qualche anno prima nell'ultimo anno di guerra i nazisti realizzano sul modello di Slon con caratteristiche quasi speculari e con lo stesso spirito di falsificazione del reale un film dal titolo Il Führer dona una città agli ebrei costruito per smentire le voci sul diffondersi dei campi di sterminio il progetto nasce in seguito alla richiesta da parte della Croce Rossa danese di visitare Theresienstadt il campo di concentramento dove erano stati riuniti degli ebrei a cui era stato fatto credere che avrebbero goduto di un trattamento di favore per i loro meriti durante la prima guerra mondiale la visita dura otto ore e la commissione trova un campo in cui le strade sono state ripulite le facciate delle case dipinte è stato costruito un palchetto per concerti e un campo da calcio dall'indomani si pensa al film le riprese durano un mese e la regia è affidata a Kurt Gerron un attore tedesco nato a Berlino da famiglia israelita la cui biografia è stata ricostruita qualche anno fa noi lo conosciamo perché ha una parte nell'Angelo Azzurro con Marlene Dietrich del 28 e noi sappiamo anche che è stato a Cinecittà è citato a Cinecittà per pochi mesi poi con gli attacchi e la persecuzione degli ebrei in Germania lui fugge in Olanda ma in Olanda quando cade l'Olanda in mano tedesca è riconosciuto e viene inviato in questo lager di Theresien dove gli viene commissionata la direzione del documentario lui pensa di salvarsi dirigendo questo documentario il lungometraggio è concepito sullo stesso principio di rappresentazione di un campo di concentramento come luogo semiparadisiaco a cui accedere volontariamente e in cui potersi esprimere in modo libero praticando giardinaggio lavori falegnameria e ceramica artistica allevando animali facendo sport il cortile della caserma diventa un campo da calcio a cui i prigionieri assistono con molta partecipazione dedicandosi a attività culturali come redigere il proprio giornale o musicali come abbiamo visto a un certo momento si assiste a uno spettacolo teatrale esattamente come i bambini giocano all'aperto tutte le persone che vengono riprese dalla macchina da presa risultano ben nutrite e ben vestite sto benissimo a Teresim non manco di nulla dice sorridendo uno degli ebrei del film vediamo teresim teresim 1818 1841 wurde die errichtung eines ghettolagers für privilegierte juden beschlossen la gente è molto libera di fare le cose a seconda delle proprie competenze, professioni e quindi si coltivano gli orti. E' importante che sono ridano sia nel film sovietico che in questo. L'impressione di realtà deve essere diffusa in tutto il documentario, lo savo l'inizio con la descrizione, i gesti sono normali gesti. E' lo stesso Guerron che chiede ai suoi attori di sorridere davanti alla macchina da presa. Questo documentario rispetto a quello sovietico non verrà mai distribuito e va considerato come il primo documentario in cui tutte le comparse vengono sterminate alla fine delle riprese. Dei 140.000 ebrei internati a Theresien, 30.000 vi trovano nella morte, mentre per gli altri 90.000 la destinazione è Auschwitz. Vedete, è come se fosse una copia conforme rispetto a quello sovietico, lo stessi principi di falsificazione. Su cose reali, su azioni reali. ... 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 distinzione che proporrei è questa la discussione le fake news non sono tutte uguali in ambito scientifico e quindi o mi limito all'ambito scientifico ad affermazioni appunto o antiscientifiche o pseudoscientifiche perché ci sono fake news che naturalmente per quanto possiamo esecrarle biasimarle per molti aspetti come il terapiatismo non nuocciano direttamente alla salute non cambiano i nostri comportamenti anche se sono ripeto molto rischiose per altre ragioni e poi ci sono invece fake news particolari che sono quelle che influenzano i comportamenti sociali nel caso dei vaccini l'alimentazione terapia alternative e quelle si nuocciano gravemente alla salute e qui si apre un tema che io affronto solo marginalmente perché tra l'altro non ho una mia posizione da difendere ma ve lo faccio presente è soltanto da alcuni mesi e soltanto dopo la pandemia che per esempio negli stati uniti si sta discutendo se sia legittimo o meno considerare una sanzionabilità di queste fake news cioè di farle uscire dall'ombrello della libertà di espressione ma nel caso di fake news che intenzionalmente diffondono informazioni false che poi influenzano i comportamenti sociali e la salute delle persone se non sia il caso di considerare degli elementi di sanzionabilità quantomeno amministrativa multe o quant'altro nessuno vuole mettere in galera nessuno ma insomma normalmente però insomma in questo caso parliamone negli stati uniti se ne sta parlando e ci sono stati un paio di casi di discussione interessanti anche perché lo sappiamo che di questo discute molto ne abbiamo discusso tanto anche noi a padova con fabrizio tonello e altri esperti insomma un caso come quello dell'assalto a capitoli è stato ricostruito per molti aspetti come una intenzionale e voluta e lunga preparazione di una realtà alternativa che conosciamo bene negli stati uniti e che ha portato molte persone a credere che quella realtà alternativa potesse poi tradursi violentemente in una realtà vera cioè andare davvero a pensare di prendere capito lì negli stati uniti quindi una questione molto seria insomma non stiamo parlando soltanto di buon temponi tipo i terrapiattisti ma di una questione molto molto seria almeno a livello se la prendiamo dal punto di vista di di chi avvelena i pozzi mettiamola così di un normale dibattito di un giusto dibattito scientifico allora perché secondo me dobbiamo prendere sul serio le fake news per una serie di ragioni perché farò vedere gli argomento adesso brevemente quella che io definirei una tempesta perfetta dal punto di vista cognitivo cioè le fake news sono fatte in modo tale da avere molte frecce purtroppo al loro arco qui vedete ho sintetizzato tanti studi che vengono fatti stati fatti nell'ultimo periodo che cosa alimenta le fake news e in particolare la pseudoscienza tanti elementi naturalmente l'insoddisfazione sociale la sfiducia nei confronti delle istituzioni e la scienza è percepita naturalmente come un'istituzione fragilità educativa la difficoltà che abbiamo ci sono molte indagini nel distinguere non soltanto tra un testo fraudulento e un testo autentico ma tra chi ti sta spacciando un ti vuole vendere qualcosa oppure ti sta informando invece in modo descrittivo e poi naturalmente interessi economici dietro le fake news ci sono interessi economici enormi perché hanno un carattere virale sul web quindi permettono di fare guadagni notevoli meccanismi cognitivi e sociali e però vorrei aggiungere che l'aspetto che a me interessa particolarmente ne parlerà anche giorgio valortigari precursori evoluzionistici che rendono le fake news così come dire suadenti noi ne abbiamo ci abbiamo lavorato con giorgio con vittorio girotto che approfitto sempre per ricordare che ci manca tanto per il suo tipo di approccio nel quale con giorgio e con vittorio appunto abbiamo provato a formulare una specie di sistema interpretativo delle credenze che come giorgio poi ha ulteriormente approfondito in tanti suoi studi possiamo immaginare come uno schema di questo tipo c'è sostanzialmente alcune predisposizioni a quelli che noi chiamiamo dei precursori naturali che hanno delle ragioni adattative per cui si sono evoluti nella mente del genere uomo e in particolare della specie non sapiens ci sono tanti studi che ci dicono che la nostra mente ha una forte predisposizione al dualismo istintivo quindi distinguere molto in modo molto intuitivo tra un'entità animata e inanimata l'animismo innato la nostra fortissima predisposizione verso la teleologia quindi verso spiegazioni tipo finalistico narrativo dove il senno di poi la fa da padrone cioè come è andata a finire la storia mi fa ricostruire tutta la storia come se dovesse finire necessariamente in quel modo e ne sappiamo che queste precursori naturali poi al mutare delle circostanze culturali e ambientali umane si sono tradotte in che cosa in una serie di caratteristiche che ha la mente umana per esempio un'eccessiva attribuzione del rapporto causa effetto che è alla base delle superstizioni tutte le superstizioni sono un eccesso di attribuzione scorretto di un rapporto causa effetto o un eccesso di attribuzione di intenzionalità e così via tutto questo noi sappiamo è un sottoprodotto con degli effetti adattativi secondari avuti nell'evoluzione e che come potete capire bene favorisce tantissimo il tipo di narrazione con il quale ad arte sono costruite le fake news molte delle fake news che vi ha raccontato Gian Antonio l'avrete notato hanno un carattere cospirazionale cospirativo sono dei complotti e questo per esempio è estremamente suadente per la mente umana molto persuasivo proprio per queste ragioni perché una spiegazione teleologica è una spiegazione semplicistica che però vi rassicura molto rassicura molto la nostra mente si adatta molto bene alla nostra mente anzi la nostra mente si adatta a questo tipo di spiegazioni perché tutto assume un valore chiaro tutto è bianco e nero ci sono i buoni e cattivi voi automaticamente vi sentite dalla parte di una minoranza che sta svelando un complotto al quale aderisce la maggioranza anche questo è estremamente persuasivo per la mente umana sentirsi vittime di un complotto quindi il vittimismo un'altra arma estremamente frequente nella diffusione delle fake news quindi sentirsi dei cavalieri solitari che sfidano il mainstream che sfidano l'istituzione che sfidano la scienza ufficiale tutte espressioni ovviamente che trovate ripetute tante volte nella retorica di questo tipo di fake news insomma sono costruite ad arte effettivamente perché come dire corrispondono molto bene a questo tipo di sistemi di credenze che si sono radicate nella nostra mente viceversa e questo è il secondo elemento che va come dire a congiurare con il primo esistono molti elementi invece nel tipo di contenuto che noi dobbiamo comunicare nella scienza che sono controintuitivi e quindi che sono scomodi per la nostra mente l'elenco lunghissimo non ve lo farò però sostanzialmente le spiegazioni che implicano l'uso della statistica delle probabilità ci sono molti studi di psicologia cognitiva che ci fanno capire quanto sono controintuitivi l'evoluzione stessa è stato mostrato tante volte ha una spiegazione controintuitiva perché guarda caso darwin ci insegna proprio a dare una spiegazione non finalistica non teoreologica no del del processo naturale del posto il bombo della natura e così via se ci aggiungete poi che esiste una controintuitività legata al fatto che noi per molti contenuti scientifici in fisica come in biologia non riusciamo a percepire una dimensione tridimensionale ci stiamo parlando di cose invisibili all'occhio stiamo parlando di qualcosa di lontano di astratto che è difficile tirar fuori bene insomma mettete insieme tutto questo con quello che vi ho detto prima insomma le fake news sono pericolose perché invece se io devo contrapporre a queste fake news un contenuto scientifico autorevole e affidabile faccio fatica e quindi da una parte c'è qualcosa di faticoso e dall'altra c'è qualcosa invece di molto intuitivo ma questo non basta ancora perché in più c'è un ambiente quella che noi chiamiamo una nicchia ecologica no in cui si diffondono certi memi certe idee no la memetica appunto prova ad usare come dire metafore evoluzionistiche per spiegare anche il successo dei memi e le fake news sono un esempio classico di meme no perché hanno questo meccanismo contagioso virale che è insito nel modo in cui sono costruite beh se mettiamo insieme il fatto che corrispondono dalle predisposizioni naturali molto profonde della nostra mente se ci aggiungiamo che viceversa la scienza è controintuitiva e se poi ci aggiungiamo che le fake news è vero che ci sono sempre state nella repubblica di venezia c'erano ci sono sempre state nella storia le fake news la disinformazione la propaganda lo diciamo sempre no non c'è nulla di nuovo nelle fake news è vero ma fino a un certo punto è vero che c'è sempre stata disinformazione e propaganda ma oggi altrettanto vero che molti studi ci dicono che il web per le caratteristiche con cui è strutturato gli algoritmi del web la formazione di queste bolle di autoconferma favoriscono tantissimo la diffusione delle fake news e questo è un ulteriore freccia all'arco del successo delle fake news per cui si creano queste bolle di autoconferma queste polarizzazioni per cui tu tendi l'algoritmo tende a far far sì che tu sia circondato di persone che la pensano sempre come te che confermano i tuoi pregiudizi i tuoi preconcetti chi la pensa diversamente non è più un dissenziente che sta portando un contributo utile ma è un eretico che è quindi fuori dalla tua comunità e genera questo meccanismo di tribalismo digitale potremmo dire che è estremamente pericoloso le fake news si inseriscono esattamente dentro questa dinamica e questo è un ulteriore elemento che le rende molto pericolose questo è un lavoro che è appena uscito molto interessante che mi è capitato di discutere su scientifica america sulle scienze dove vedete questo lavoro fatto da da steven slowman brown university e da da altri colleghi che sostanzialmente è uscito pochi mesi fa hanno messo a confronto sette casi in cui si diffondono conoscenze antiscientifiche pseudoscientifiche li hanno scelti appositamente in modo che fossero molto eterogenei tra di loro quindi si va dal riscaldamento climatico ai vaccini agli ogm all'omeopatia all'evoluzione umana big bang e così via hanno cercato di testare due modelli classici che spiegano alternativi a quelli che vi ho appena fatto vedere adesso il successo delle fake news cioè il modello del deficit ovvero sostanzialmente è un problema di mancanza di conoscenza il fatto che noi accettiamo e cadiamo negli inganni delle fake news oppure il modello dei valori culturali forti o ideologico per cui noi cadiamo nel tranello delle fake news perché le fake news corroborano dei forti valori ai quali noi aderiamo ora se questo può essere vero per certe comunità fortemente conservatrici degli stati uniti però questo paper cerca di capire se possiamo considerarlo una spiegazione generalizzata la risposta è no secondo sloman per queste ragioni perché se andiamo a fare un'analisi statistica approfondita e quantitativa ci rendiamo conto che le persone che sia costruiscono fake news e poi aderiscono e contribuiscono a diffondere fake news questo ormai lo abbiamo visto tante volte non sono spesso affatto persone ignoranti o poco preparati anzi hanno inizialmente delle basi di ragionamento dice sloman e di ricerca autonoma buone cioè sono persone che presto si convincono di avere da sole gli strumenti per capire come sono andate davvero le cose andando sul web perché hanno una loro preparazione poi dice sloman cosa succede si comincia a creare un gap crescente tra le loro conoscenze oggettive cioè quello che loro effettivamente sanno su un dato contenuto di una fake news e le conoscenze soggettive cioè quello che loro presumono di sapere la presunzione di sapere diventa a un certo punto preponderante sulle loro conoscenze oggettive qui si innesca una distorsione cognitiva ben nota che è quella di danno in kruger quindi più c'è un come dire un eccesso di confidenza in quello che tu pensi di sapere sul punto di sapere più tenderai a credere a una fake news particolarmente evidente quindi più alta il livello di opposizione i dati scientifici corroborati in queste comunità più ci si rende conto che si è abbassato livello di conoscenza oggettiva e si è alzata tantissimo quella che loro chiamano la over confidence quindi non è la conclusione di questo lavoro che piuttosto interessante non è una questione di ignoranza solo non è soltanto una questione ideologica ma una questione di eccesso di fiducia nelle proprie capacità di capire come sono andate le cose un eccesso di confidenza nelle proprie conoscenze e quindi se vogliamo banalizzare è una questione di presunzione o di supponenza piuttosto che di ignoranza e allora la tempesta perfetta qual è e comincio a usare popper come arma come antidoto a tutto questo abbiamo un sistema di credenze a loro favore dei contenuti viceversa contro intuitivi della scienza una nicchia ecologica perfetta beh dobbiamo preoccuparci le fake news sono pericolose oggettivamente e allora se sono così pericolose forse un fatto importante da ricordare è che se abbiamo davanti questo tipo di nemico è un nemico se vuoi sconfiggerlo lo devi conoscere nelle sue radici e del motivo per cui ha successo quindi non basta biasimarlo e arrabbiarci indignarci però fake news dobbiamo capire che cosa c'è dietro allora forse come strategia questo è già stato visto ormai con diversi studi io la dico con uno slogan smentire non basta bisogna smontare cosa vuol dire vuol dire questo un lavoro è uscito che vi faccio vedere molto interessante è stata fatta con degli studenti statunitensi stati sottoposti a delle fake news molto ben camuffate e poi si è cercato di capire l'efficacia di antidoti a queste fake news uno è quello che vedete a sinistra il cosiddetto topic rebuilt cioè quello che noi chiamiamo debunking normalmente l'è stato citato anche prima da gianantonio stella questi siti che fanno un lavoro meritorio di smentita punto per punto di una fake news e quindi ti dicono vanno a verificare controllano e ti dicono perché è falsa beh la cosa interessante è che se voi con chi è stato sottoposto è stato convinto a una fake news opponete semplicemente dei fatti riuscite a convincere soltanto una minoranza di chi era si è convinto di quella fake news perché molto spesso create quello che viene chiamato backfire cioè un effetto uguale contrario di polarizzazione e quindi molti più voi gli dite che è falsa più si autoconvincono che è vera e cercheranno di ancora di più cercare autoconferme della loro fake news mentre quello che è interessante è che si rivela molto più efficace unire questo tipo di rifiuto che è giustissimo ovviamente è indispensabile chiaramente con un altro che loro chiamano technique rebuttal cioè un rifiuto tecnico vuol dire non ti dico soltanto che è falsa la fake news ma ti spiego perché ti ha ingannato ti spiego come è fatta te la smaschero da un punto di vista metodologico non soltanto da un punto di vista contenutistico ti faccio vedere i trucchi che ci sono dietro e ti insegno a identificarle quindi ti do inoculo come è scritto in questo paper di modo molto intelligente inoculo nelle persone un antidoto per le future fake news non soltanto per quella a cui si è stato esposto questa volta io trovo che sia un approccio molto interessante è un approccio di filosofia della scienza nel senso che qui devi essere bravo nello spiegare in cosa funziona il metodo scientifico e in cosa invece una fake news perché una fake news ti ha ingannato quindi diciamo che rientra un po in quel grande in quella grande transizione in cui siamo immersi adesso tra quel vecchio modello del raccontare la scienza del condividere la scienza che noi chiamavamo deficit model quindi l'idea sostanzialmente che dobbiamo affrontare delle paure irrazionali colmare un divario diciamo di conoscenze tra gli esperti e non esperti la divulgazione diciamo tradizionale anglosassone che valsa fino a qualche anno fa ma che sappiamo ha dato risultati fino a un certo punto e ha generato effetti di polarizzazione anche perché spesso poi accompagnata un certo paternalismo nel raccontare la scienza e viceversa passare a quello che noi oggi chiamiamo un public engagement science che ingloba la tradizione precedente ma introduce elementi di coinvolgimento attivo gioca molto di più sulle emozioni sull'immersione nella comunicazione e si presenta come molto più democratico e coinvolgente piuttosto che aspetta che adesso ti dico io come stanno le cose perché io le so e tu non le sai no questo modello vecchio modello di trasferimento qui invece è vieni accetta la mia sfida vieni su un terreno in cui facciamo un'esperienza insieme e ti racconto il contenuto della scienza insieme col processo che porta a ottenere quel risultato chiudo soltanto con come dire una provare ad applicare tutto questo al trauma tremendo che abbiamo avuto negli ultimi due anni e mezzo che è stato legato anche a questo perché lo sappiamo adesso non sono entrato nei dettagli ma insomma le fake news hanno avuto un grande esplosione durante la pandemia complottismi cospirazionismi l'origine del virus no vax no mask e così via e ci siamo trovati anche qui dentro una tempesta perfetta perché eravamo in un contesto di incertezza in un contesto in cui chiedevamo alla scienza certezze sicurezza soluzioni no quella che jacques monot definiva il grande difetto che abbiamo di avere sempre questo approccio utilitarista alla scienza per cui mi interessa la scienza solo quando mi serve non invece in quanto ricerca di base in quanto curiosità in quanto modello di conoscenza e quindi si sono messi insieme un po tutti questi aspetti la controintuitività ancora una volta di quello che dovevamo spiegare il fatto che dobbiamo ammettere di non sapere tante cose no e così via e come ne siamo usciti bene non ne siamo usciti molto bene perché poi bisogna sempre partire dai dati dalle evidenze non dal sentito dire e allora se usciamo dal sentito dire per esempio dobbiamo innanzitutto come dire riconoscere che la fiducia degli italiani media nella scienza è buona è l'83 per cento secondo questo che è uno dei migliori indici ed è superiore a quella europea quindi di per sé non è un problema di sfiducia della nostra della popolazione italiana nei confronti della scienza in tutte le servei fatte anche da observer da molti altri se voi chiedete quali sono le figure a quelli scienziati a quelli italiani si affidano di più in cima alle classifiche ci sono sempre i medici e gli scienziati e agli ultimi due posti ci sono sempre non so perché gli imprenditori al penultimo i politici all'ultimo questo lo lascio decidere a voi ma in cima ci sono sempre i scienziati e però e questo è un fatto preoccupante se voi fate un confronto tra livello di fiducia che c'era durante il primo lockdown quindi primavera del 2020 e un anno dopo stato fatto nel maggio del 2021 scoprite che la fiducia è diminuita ed è diminuita parecchio purtroppo e se voi chiedete agli italiani perché diminuita la tua fiducia nella scienza la risposta perché gli scienziati mi hanno dato dei messaggi contraddittori perché gran parte degli esperti scientifici e era competente lo capivo ma non comunicava in modo chiaro e corretto e vedete che questa è più della maggioranza assoluta delle cause di questo problema quindi vuol dire che almeno nella percezione diffusa degli italiani non abbiamo non siamo andati bene e chiudo soltanto con questo decadogo un po scherzoso che ho proposto e ho pubblicato sul Corriere della Sera in altre sedi insomma mi sono messo lì a immaginare perché abbiamo fallito perché secondo me chi ha un approccio scientifico prima di biasimare il chi non ti capisce deve essere autocritico quindi dove ho sbagliato io per non farmi capire e allora dove abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato in vari punti primo ci siamo concentrati troppo anche durante la pandemia nel comunicare il risultato della scienza cioè i fatti i numeri no quello che sapevamo piuttosto che il processo era molto più importante spiegare come si arriva a quel risultato cioè la genesi l'attitudine il metodo scientifico e non soltanto i contenuti purtroppo spesso abbiamo accettato di rispondere a domande che implicavano certezze gli altri volevano certezze dai licenziati e spesso abbiamo ceduto lo stesso con le previsioni qualche volta abbiamo pensato di come dire proporre verità con la v maiuscola quando in realtà la scienza accumula verità con la v minuscola e però sono verità importanti perché diventano poi tante e ci possiamo fidare di quelle verità non abbiamo usato spesso argomenti per autorità che sono letali nella comunicazione della scienza quindi io ti sto dicendo questa cosa perché io sono uno scienziato io ho studiato sono laureato tu adesso mi stai ad ascoltare perché non sei laureato in medicina se fate così perdete il 90 per cento del vostro pubblico immediatamente in una comunicazione con un pubblico diciamo lei un pubblico non di non esperti concedere il beneficio del dubbio quindi come dire accettare la critica e chiedere a chi ti critica di portare le prove e se non ci sono le prove di rispondere ma non escluderlo a priori l'errore di pensare che uno scienziato possa essere onnisciente quindi abbiamo sentito virologi intervenire su questioni di pedagogia di psicologia che non attenevano in alcun modo alle loro competenze nessun argomento è un tabù mi rendo conto che questo difficile adesso non c'è tempo ma insomma se c'era una fake news che continuava a girare sull'origine ingegnerizzata biotecnologica di questo virus perché non parlarne apertamente spiegare che noi in realtà il laboratorio i virus li ingegnerizziamo e come lo facciamo per delle ragioni precise magari è sbagliato farlo c'è un dibattito nella comunità scientifica non tutti sono d'accordo però perché tenere sotto traccia questo discorso per paura di essere fraintesi dal pubblico no esplicitarlo e poi spiegare perché e quali dati avevamo che smentivano l'ipotesi di origine artificiale di questo virus invece a me è capitato spesso di sentirmi dire no 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 non parlare di questo perché non capiscono non possono capire il fatto che noi in laboratorio facciamo virus artificiali invece glielo devi dire perché se non lo dice chiaramente alimenti ulteriormente il complottismo e la sfiducia e poi gli ultimi due che sono i più importanti di tutti secondo me e cioè che i dibattiti scientifici si fanno nelle sedi opportune perché quello che a noi insegnano in filosofia della scienza è che un dibattito scientifico ha delle regole ha delle regole del gioco che cambiano da disciplina a disciplina ma queste regole implicano che bisogna esporre delle evidenze delle ipotesi metterle a confronto lavorare sui dati e questo richiede convegni scientifici riviste richiede tutto un processo che e su questo io sono molto radicale non si può scimmiottare né su twitter né in un talk show televisivo perché un talk show televisivo li conosco abbastanza bene ha delle regole diverse legittime rispettabilissime ma sono regole diverse che sono la polarizzazione la semplificazione la contrapposizione l'estrema sintesi quindi i miei colleghi che spesso mi hanno detto è ma io sono andato poi dopo mi hanno messo contro quello là che io sapevo già che era un mio nemico gli ho chiesto perché ci sei andato perché ero convinto di fare divulgazione scientifica no non stavi facendo divulgazione scientifica hai fatto l'attore di uno spettacolo quindi hai fatto la parte di un'altra regola del gioco e questo è sempre un errore perché lo scienziato secondo me dovrebbe essere lui quello che dà le regole e dà le carte non invece subire le regole del gioco della comunicazione che ti impone un conduttore televisivo che sa fare benissimo ovviamente il suo mestiere e l'ultimo difficilissimo è spiegare il consenso scientifico secondo me il vero antidoto per le fake news è questo e però è difficilissimo cioè cos'è il consenso scientifico in filosofia della scienza il fatto che sul fatto che non ci sia rapporto tra il vaccino trivalente l'autismo c'è un consenso scientifico oltre ogni ragionevole dubbio sul fatto che il riscaldamento climatico è dovuto in gran parte alle attività antropiche è un consenso scientifico oltre ogni ragionevole dubbio devi spiegare come si arriva a quel consenso devi spiegare che è un processo sociale di disamina collettiva di dati di ripetuti controlli potremmo sempre sbagliarci ogni consenso è rivedibile qualche consenso è meno forte dei due che vi ho appena indicato ma devi spiegare la difficoltà di questo processo perché questo è il modo migliore per far capire che la scienza naviga nell'incertezza commette spesso degli errori ma nella scienza del loro è generativo e accumulando verifiche sugli errori aumenta la conoscenza che è il bellissimo paradosso che ci ha insegnato car popper no a forza di criticare le nostre conoscenze la conoscenza aumenta anziché diminuire come dice ma come è possibile continuate a criticarvi e ne sapete sempre di più sì a forza di criticarsi ne sai sempre di più e in questo devo dire è molto bello insomma un bellissimo antidoto secondo me contro le fake news è un piccolo libriccino aureo scritto da una filosofa storica della scienza di Harvard che si chiama Naomi Oreskes che ha scritto un libro durante la pandemia si intitola perché fidarsi della scienza sono 120 pagine bellissime nelle quali lei sostiene una tesi formidabile lei dice bisogna fidarsi della scienza perché la scienza sbaglia dice ma come devo fidare di te perché sbagli sì lei ti fa vedere in 120 pagine che ti devi fidare di me perché sbaglio ma sbaglio con metodo sbaglio e qualcuno viene a controllare i miei errori sbaglio attraverso una disamina collettiva e quell'errore diventa esattamente il motivo per cui ti devi fidare quando io ti dico che c'è un consenso scientifico su qualcosa ti devi fidare di me perché ho sbagliato e perché ho reso l'errore un processo generativo anche questo è molto controintuitivo è difficile da spiegare al pubblico ma è lo sforzo che dobbiamo fare di tipo metodologico per vincere le fake news e il falso in questo caso nella scienza che ho cercato di descrivere e vi ringrazio ringraziamo Telmo Piavani per questa bellissima relazione che ci ha portato proprio al centro dell'attualità spiegandosi le ragioni per cui si affermano le fake news i meccanismi che contribuiscono alla loro diffusione gli strumenti per smontarle da chiuso con questo bellissimo decalo di buone pratiche che magari cercheremo di mettere in atto anche tutti noi e adesso apro l'ultima relazione di guido caldarelli professore di fisica teorica che ci parlerà della scienza della disinformazione e cederei da presidenza Andrea Rinaldo scusandomi con il collega perché purtroppo devo andare via facciamo se parte tacche e riattacche abbiamo provato confermo che abbiamo provato ecco qua Adesso si. Bene, allora, vediamo un attimo se riesco a ritrovare. È un po' complicato. Bene. Tanto ringrazio il Presidente per questo invito a questa interessantissima conferenza. Mi spiace perché arrivando a quest'ora non riesco a rispondere a alcune delle domande. Vedo che il collega è andato via su cosa sia vero, cosa sia falso. E questo effettivamente era la prima cosa che mi sono chiesto quando ho visto il titolo di questa giornata. Questi due giorni in realtà c'è oggi e domani. E sapevo che l'uditorio sarebbe stato difficile. Io sono un fisico, quindi ho cercato di prepararmi con i ricordi del classico. E mi ricordavo, insomma, di aver studiato questa proposizione che ancora oggi penso ci possa essere di guida, no? Dire di ciò che è, che non è, o di ciò che non è, che è, è sicuramente falso. Mentre è sicuramente vero dire di ciò che è, che è, o di ciò che non è, che non è. Ora non è un gioco di parole, ma è abbastanza chiaro che cosa ci sta dicendo Aristotele. In realtà c'è stato, non ho fatto nulla, però forse aver citato male Aristotele ha questo come effetto. Vengo, riproviamo, con grande rispetto. C'è stato un avanzamento più recente, nel senso, queste sono preposizioni che noi possiamo utilizzare per quello che è intorno a noi, ma se io dicessi questo enunciato è falso, sarebbe difficile dimostrare la verità di questo enunciato. E se lo facessi sarebbe falso. Allora, questo tipo di proposizioni che parlano di se stesse sono poi affrontate da Gödel e Bertrand Russell e hanno tutta una trattazione differente. Ma noi per il momento parliamo di cose più semplici, come dire, per esempio, io in questo momento sono a Treviso. Ecco, no, questo possiamo vedere se è vero o no. Il canal grande è qui fuori. Quindi sicuramente no. Ora, il problema di cosa sia vero e cosa sia falso è un problema chiaramente centrale. Io oggi voglio parlare di alcune cose che per fortuna non sono state trattate nelle relazioni precedenti. C'è da dire che c'è una certa asimmetria però fra il vero e il falso. Se guardiamo le parole con cui vero e falso sono descritte nelle nostre lingue c'è sempre un po' di fatica per scoprire il vero. Il vero in greco è quello che non è nascosto e ha l'eteia da lantano. Noi scopriamo, cioè leviamo la copertura. L'inglese è ancora più preciso, dice detect, cioè levo, detego, levo quello che è il ricoprimento di una stanza, le tegole, noi diciamo, quello che ricopre una stanza. O svelare, quindi un po' scherzando, un po' no, bisogna fare un po' più di fatica, quindi chiedo la vostra pazienza per vedere la verità. Ora, disinformazione, come appunto dicevamo prima, non è solo bianco-nero cosa è vero, cosa è falso, ma c'è tutto uno spettro di possibili fraintendimenti. Ed infatti, al di là di fake news, si parla oggi più di disordini dell'informazione. Ora, questo è, vabbè, abbiamo sentito prima la relazione, abbiamo sentito molti altri commenti su questo argomento. e Science, che è una rivista molto prestigiosa, ha dedicato la copertina su come si diffondono queste informazioni, così potete trovare lì i riferimenti a tutta una serie di articoli. Esistono progetti interi della Commissione europea per combattere quella che è la disinformazione, specie in politica per le elezioni. E senza pretesa, diciamo, di andare molto nel dettaglio, esiste tutta una serie di differenti gradi in cui io posso avere a che fare con qualcosa che è sicuramente falso, qualcosa che è sicuramente artefatto, ma non con lo scopo di dare una notizia che metta chi la legge, il lettore o il fruitore di questa notizia, in una condizione di particolare debolezza. Può essere non intenzionale, per esempio, io ho creduto a quello che mi è stato detto e l'ho ripetuto. Quindi esiste tutta una casistica, però tutti insieme, davvero possiamo dire che parliamo di disordine dell'informazione. Vedo con piacere che avevo scelto alcuni casi classici di disordine dell'informazione, ma in questo caso con motivi differenti, sono dei documenti artefatti con diversi scopi. Ho, dopo la relazione di Gian Antonio Stella, cambiato la data per i protocolli dei savi di Sion. C'è però, e il punto della mia relazione, una grande differenza oggi rispetto a tutto quello che è avvenuto in passato. E la grande differenza è nel numero delle persone che stanno al mondo, non c'è mai stata una società con 10 miliardi di persone circa, come ordine di grandezza, non c'è mai stata una società dove tutti fossero connessi, non c'è mai stata una società dove ogni atto venisse registrato e conservato. Queste cose non sono dettagli, ma cambiano profondamente la natura del problema. Queste sono delle indagini passate, quindi probabilmente sarà anche peggio, però uno dei problemi di questa società costruita in questo mondo è la disintermediazione, ovvero le notizie possono essere prodotte da tutti e lette da tutti. Quindi manca un po' quello che era il principio di fiducia, di autorità. Non mi piace dire il principio di autorità, visto che faccio lo scienziato di mestiere, però la fiducia nel giornale che pubblica una certa notizia, nella persona che mi dice una certa cosa. Oramai, nel 2016, quindi tempo fa, circa il 50% degli americani utilizzava le piattaforme online come principale fonte di notizie. I giornali stampati erano ridotti al 5% e adesso questo è vero anche in Europa e con proporzioni ancora maggiori. Quindi è questo anche una dimensione del problema, per fortuna per me non ancora trattata fino a questa relazione. Ed ha a che fare con la complessità. Il fatto che, avendo a che fare con delle società, dei fenomeni in generale, composti da molti elementi elementari, appunto, don del nome, la interazione fra questi elementi genera un comportamento nuovo. Se voi pensate a una cellula come il neurone, più o meno si capisce il suo funzionamento, si capisce non del tutto come si relaziona magari con quello vicino, un cervello però pensa. Ora, il pensiero è un qualche cosa che nasce dalle interazioni di queste cellule che noi non sappiamo spiegare perché sono 100 miliardi di cellule. Un numero, tutto sommato, neanche grande. Ma se non vogliamo andare sulla parte della coscienza o del pensiero, anche una cosa molto più, meno affascinante, come il metallo, no? I materiali hanno delle proprietà di conduzione della corrente, di conduzione del calore, che sono sicuramente derivate dagli atomi di cui sono composte, ma nessun atomo può essere descritto come conduttore, per esempio. Quella è una proprietà del materiale. Allora, la complessità, il comportamento delle folle, dal comportamento dei singoli, del cervello, dai neuroni, è un po' la scienza di questa età in cui viviamo. Questo è anche il parere di Hawking, è stato un famoso fisico teorico a Cambridge. Questo sarà il secolo della complessità. Nel senso, abbiamo imparato a fare mattoni di ogni tipo, la fisica ha spiegato ogni tipo di mattone. Adesso però non sappiamo come questi mattoni, se edificheremo Palazzo Franchetti, uno stadio o qualunque altra cosa. Come questi mattoni si mettono insieme è tutta un'altra storia. Allora, perché un fisico, a parte che mi hanno invitato oramai, quindi purtroppo non ci possiamo fare nulla, ma allora questo problema è stato studiato da questi tre signori, Boltzmann, Gibbs e Maxwell, già nel passato, che hanno fatto una cosa molto bella di cui si parla purtroppo poco. Io sono sicuro che ricordate le lezioni di fisica con grande dispiacere a chi le ha fatte al liceo. Però ci sono delle cose molto belle da insegnare. Per esempio, questi tre scienziati nel 1800, verso la fine del 1800, quindi più di 100 anni fa, sono riusciti a trovare delle leggi che unissero il mondo microscopico con il mondo macroscopico. Se io prendo questa bottiglietta e contassi le molecole che ci sono dentro, qui dentro, ci sono molte più molecole in questa bottiglietta che stelle, non galassie, stelle in tutto l'universo. Quindi un numero sterminato lì dentro. E come ci si relaziona con questo mondo? Ci si relaziona con la statistica. E quindi esistono delle leggi per il comportamento delle particelle in media. E io riesco a dire che variabili che posso misurare una persona grande come me, intorno al metro, quindi molto più grande di queste molecole, sono la pressione, il volume, le cose che si misurano dentro un laboratorio sono, e questo è un mondo macroscopico, è legato a proprietà in media, quindi entra la statistica, del mondo microscopico, la loro velocità. Perché vi ho annoiato così? Perché un po' l'idea che si sta facendo largo fra i colleghi, molti di voi lo sanno, altrimenti mi fa molto piacere, insomma, divulgare, è che la società stessa può essere considerata come un fenomeno di questo tipo. Quindi con medie statistiche, con metodi matematici, è abbastanza possibile cominciare a prevedere quale potrebbe essere il comportamento della società a partire dal comportamento di tanti individui, mediati fra loro. Ora, per chi si appassiona di fantascienza, questo non a caso è molto simile alla psicostoria, Asimov trattava nella sua trilogia. Noi non siamo molto lontani da qui, però alcune cose ci sono e sono sicuro che forse non ne avete sentito parlare ed è bene parlarne oggi qui. Ora, una delle cose che abbiamo capito sono le relazioni tra le persone. Le relazioni fra le persone non hanno una geometria, questo non è proprio il termine giusto, una topologia sarebbe il termine migliore. un tipo di contatti fra di loro di natura banale. Sono di una natura abbastanza particolare che indichiamo con teoria delle reti, diciamo, come reti, come grafi. Grafo è l'oggetto matematico, l'oggetto fisico, reale. In inglese si chiama web, si chiama networks, e si distingue fra l'ideale platonico e invece quello che vediamo noi. Io posso prendere persone e collegarle a seconda della loro amicizia, della loro relazione, posso prendere dei testi e collegarli a seconda di qualche tipo di relazione. Queste relazioni hanno mille caratteristiche, ma per il momento un paio solo ci interessano, ovvero la relazione può essere simmetrica, così come invece può essere direzionata. Io, se chiamo una persona, la sto chiamando io, c'è un verso, però se tutte e due lavoriamo allo stesso progetto, non c'è un verso. Quindi, in qualche modo, ecco, questa è la distinzione di base. Incredibilmente, quello che succede è che in quasi tutti i campi in cui abbiamo a che fare con tanti elementi, in cui il numero è molto grande, e le stesse proprietà sono riprodotte all'infinito, le troviamo sempre, quindi c'è una universalità. Vado molto veloce qui, perché ci stiamo un attimo scostando da quello che è l'argomento della relazione, però ho un minimo di metodologia che serve, spero, per apprezzare il resto. Queste reti, che noi possiamo trovare ovunque, hanno tre proprietà, più o meno sempre nello stesso modo rappresentate e che è possibile trovare con gli stessi metodi. Sono molto eterogenee. Se voi pensate alla rete, la prima cosa che vi viene in mente è un pescatore. Abbiamo visto tutti, no? Come sono fatte le reti dei pescatori. C'è un nodo. dove il filo viene, si intreccia, sopra ce n'è un altro, sotto ce n'è un altro, a destra, a sinistra, un altro ancora, reti quadrate. Sono molto regolari. Ne vedo un pezzo, ne vedo un altro, sono uguali. Ecco, no, le reti, quasi nessuna è fatta così. Ci sono alcuni personaggi, elementi di questa rete che hanno tantissimi collegamenti e quasi tutti ne hanno pochi. Primo punto. Quindi, in varianza di scala, ma lasciamo perdere il termine tecnico, eterogeneità. Sono molto diverse dal punto di vista del numero dei collegamenti. Si possono attraversare molto facilmente. Se io prendo una rete del pescatore con un mille fili, beh, sarà lunga, diciamo, non so, cinque metri. Se prendo duemila fili, beh, sarà lunga dieci metri, sarà il doppio. Il numero doppio di fili, il doppio della lunghezza. Ecco, no, queste reti possono essere fatte da milioni di fili, sono più o meno lunghe e uguali. Perché i legami si addensano, possono essere attraversate in maniera molto veloce. Questo è il motivo per cui la mail funziona. Quando noi spediamo una mail a qualcuno viene spezzata in tanti pezzetti, lanciata a caso, poi nei, non proprio a caso, però lanciata nei server intorno a me e questi server poi si preoccupano di farla arrivare a destinazione. Ma questo non sarebbe possibile se non ci fosse questo effetto di mondo piccolo, di small world. Sono composte da moduli. Si vede molto chiaramente qual è una comunità e questo sarà quello che mi serve per le fake news. Va bene, degli esempi perché non vorrei che queste cose calassero un po' troppo dall'alto. Immaginate noi in questa stanza se adesso avessimo il tempo o la voglia di vedere le nostre altezze troveremmo un'altezza media metro e 75 o metro 80 non lo so insomma vado a memoria su quelli che sono i valori medi in Italia delle altezze per uomini e donne. Poi ci saranno qualcuno più alto saranno pochi vedete sono sulla destra di quella curva vediamo se adesso non faccio qualche danno quelli un po' più alti sono a destra della curva una classica curva a campana quelli un po' più bassi sono a sinistra che vuol dire che sono qui che sono pochi rispetto alla media che rappresenta bene la popolazione ma se io cambiassi argomento dicessi quanti di noi sono su facebook o sono su social e quanti amici hanno allora sarebbe molto diverso perché quasi tutti avrebbero pochi amici e qualcun altro ne avrebbe tantissimi quanto tantissimi che vuol dire tantissimi cioè chi ne ha dieci e chi può averne un milione allora questo è un una serie di ordini di grandezza e come dire che in questa stanza oggi ci sono persone alte un metro e settanta e vari ordini di grandezza diversi alte millimetri alte 16 chilometri sarebbe un mondo ben strano il mondo diciamo della topologia dei contatti è così strano a questa eterogeneità e quindi vuol dire per esempio tornando al vero al falso nelle fake news che quando il falso parte da un sito che ha un milione di contatti è molto diverso che se lo racconto io molto diverso ora naturalmente qui diciamo poi gli studi si sosteguono per cercare di capire come sono fatte queste reti qui e sono molto contento di mostrare un lavoro fatto con Andrea questa è una struttura tipica delle reti vedete qui ci sono questi siti che hanno tanti collegamenti e tanti collegamenti periferici che invece hanno solo pochi collegamenti ecco questa struttura è universale si trova dappertutto e lo mostriamo in questo articolo non solo i fisici ovviamente hanno fatto queste cose la sociometria ha fatto ha fatto anche la sua parte ora il concetto di mondo piccolo di small world lo dobbiamo a Milgram è stata una persona che ha fatto questo esperimento nel 1967 vedete la grafica è proprio quella di quegli anni questo è l'articolo originale che cosa ha fatto ha preso delle persone estratte a caso dall'elenco del telefono già l'elenco del telefono è un oggetto che è scomparso quindi insomma però voi sapete di che cosa parlo in due posti all'interno del Midwest a Omaha un'altra città questo però è il primo esperimento e ha chiesto loro se conoscessero una persona obiettivo che era un suo collega che lavorava a Boston a Cambridge in realtà vicino a Harvard e che vendeva e comprava azioni in banca allora il gioco finiva se queste persone conoscevano direttamente l'obiettivo altrimenti dovevano passare tutto l'incartamento che Milgram aveva spedito a qualcun altro che nella loro opinione poteva essere in una condizione migliore per conoscere questa persona che lavorava in banca ora qui la distanza non è solo geografica sociale Boston è la città delle università è la città di New England ricca lì stiano nel Midwest quindi persone che all'università magari al tempo non sapevano neanche cosa fosse vivevano lì eppure questa persona che lavora in un supermercato la passa a un operaio che lavora nel supermercato il quale probabilmente pensa questa è una persona che avrà studiato diamola al bibliotecario altra figura scomparsa il quale bibliotecario lo passa a una cricca adesso utilizzo questo termine in senso tecnico una serie di linotipisti di tipografi tutti i mestieri non ci sono più questo ultimo dice ma io conosco una persona che lavora a Boston e questa persona effettivamente che vendeva questo è un caso reale vendeva vestiti a Boston conosce la persona che lavorava in banca ora se contate i passaggi sono uno due tre quattro cinque sei sette neanche troppo bene perché in media bastano sei passaggi per collegare due persone a casa ora naturalmente questo bastava 55 anni fa adesso la faccenda è molto più semplice se noi andiamo su Facebook che comunque è una porzione relativamente grande dell'umanità ci sono credo 700 milioni di utenti quindi credo che sia il settimo stato al mondo Facebook come popolazione allora la distanza fra due persone qui bisogna distinguere fra media e moda però senza entrare troppo nel tecnico vedete anche meno è sicuramente meno di quattro passaggi stiamo intorno a tre e mezzo quindi con tre passaggi e mezzo io su Facebook sono collegato con chiunque in media un mio amico ha un amico che probabilmente conosce la persona che voglio conoscere io reti bipartite ecco questa ve la spiego solo perché magari può essere importante per il vostro lavoro per quello che fate capire come si formino in ambito sociale queste reti immaginiamo di avere sulla sinistra persone questi cerchi gialli e questi quadrati verdi sono attività che svolgono insieme allora per esempio uno due tre possono aver scritto un lavoro scientifico che è questo A quindi queste tre persone sono coautori della stessa attività possono essere attori in un film possono essere tifosi del Venezia possono essere qualunque cosa la relazione io voglio che sia allora se costruisco questo tipo di struttura allora posso collegare le persone fra di loro vedo che uno due tre hanno collaborato per esempio in questo articolo ma poi due ha collaborato con cinque anche in B allora vedete c'è questa relazione posso proiettare questa che è semplicemente una rappresentazione delle relazioni fra le persone mediata attraverso le loro attività sia in legami fra le persone che naturalmente simmetricamente in legami fra le attività perché se due ha lavorato sia in A che in B allora questi articoli probabilmente parlano della stessa cosa ora qui c'è la chiave per utilizzare le reti come molti usano e come adesso vedremo ora la cosa importante delle reti appunto quella che vi dicevo io è di essere composta da moduli di permettere di visualizzare e vedere e capire sono concetti molto simili anche il tipo di lingua l'etimologia dei vocaboli che utilizziamo noi la cosa che abbiamo capito diventa chiara quindi è un vocabolo che ha a che fare ora le persone si sono sbizzarrite e questa è la Firenze del Rinascimento abbiamo le principali famiglie e una linea fra le due famiglie significa un'alleanza come la misuro l'alleanza beh due membri della famiglia si sono sposati in modo classico diciamo per vedere allora vedete io posso subito colorare diversamente i vertici a seconda del loro grado del loro numero di collegamenti ho delle famiglie che sono formano un blocco completamente coeso qui manca solo un matrimonio fra Bischeri e Castellani ecco questa tecnicamente si chiama Cricca il termine neutro no poi abbiamo una famiglia che ha tanti collegamenti che ha tante alleanze e poi abbiamo delle famiglie invece che sono un po' alla periferia di questo sistema ora non c'è bisogno di andare indietro ricordarsi ogni passaggio della storia del rinascimento ma guardando questa immagine è abbastanza chiaro capire chi è che ha il controllo e chi si sente messo diciamo un po' ai margini di questa rete e magari può organizzare una congiura vedete quanto è informativa direttamente questa questa immagine ora il punto è che oggi è come allora questa è la rete dei medici io posso andare a vedere le reti che noi lasciamo in giro le nostre tracce questa è una rete di telefonate presa da un operatore in Ungheria lo posso dire tanto è passato tanto tempo e i dati non sono più segreti quindi vedete ci sono delle persone che fanno molte chiamate questi due magari non hanno una relazione particolarmente soddisfacente quindi sono sulla rete la rete però è fatta con questa struttura ci sono persone più importanti e persone meno importanti ma soprattutto si può profilare si può vedere a che gruppo appartiene una persona e ritorniamo ancora qui scusate ogni tanto parte devo essere io che mi appoggio ok quindi questo l'avevamo visto questa è una vecchia slide io prima ero a Lucca e c'erano Paolo e Francesca adesso diciamo per motivi geografici ho cambiato ho cambiato sì geopolitici i nomi però non cambia molto ora concetti come amicizia affetto per fortuna non sono misurabili ma in questo mondo in cui noi ci ricordiamo di tutto e tutto lasciamo in memoria negli hard disk dei computer io posso avere delle prossimità delle misure di prossimità allora posso vedere per esempio che Romeo e Giulietta si scambiano molte lettere posso vedere che Giulietta segue su Twitter Romeo posso vedere che gli mette sempre like su Facebook e già queste cose pur non leggendo che cosa c'è nelle mail pur non leggendo i commenti potrebbero fare impensierire la moglie di Romeo come è questa persona sempre sempre vicina poi vedo che magari hanno gli stessi interessi comprano le stesse cose sui portali e sui negozi online per esempio sono tifosi del Venezia poi posso andare a vedere come la pensano in politica e probabilmente la pensano in maniera differente allora io posso misurare posso dare un numero a quanto sono vicini queste due persone se voi pensate che questo non si faccia sbagliate quando su Amazon su ebay l'abbiamo visto prima io ho cercato in vano di comprare su ebay in queste ore un pezzo di intonaco romano non li ho trovati avrei speso anche più di 75 pound però non c'erano e se voi fate caso quando utilizzate questi strumenti vedete che a un certo punto vi suggeriscono delle cose perché vi suggeriscono degli acquisti perché il software il programma ha memorizzato tutto quello che noi abbiamo comperato e sicuramente visto che siamo miliardi che usano lo stesso lo stesso negozio online ci sarà qualcuno che ha comprato esattamente le stesse cose che abbiamo comprato noi ma ha comprato anche un altro prodotto e allora quello viene offerto a noi noi siamo profilati quindi anche cose che non pensiamo siano misurabili che ci appartengono in realtà sono misurate perché viene tracciato il nostro comportamento c'è un bellissimo articolo insomma che potete andare a cercare con tutto il caso Cambridge Analytica di cui forse avrete sentito parlare quindi questa idea da Facebook di capire le inclinazioni politiche i gusti le inclinazioni sessuali delle persone bastano pochi post noi riveliamo quasi tutto a questi social e in più diciamo sempre la verità pensate per esempio alle elezioni nelle elezioni che si sono appena svolte sicuramente ci saranno stati dei sondaggi delle persone che telefonavano per chiedere cosa voterete noi abbiamo mille motivi per non rispondere quello che poi realmente voteremo anche perché magari non lo sappiamo ancora ci dobbiamo fare un'idea oppure non ci va di dirlo oppure quel giorno siamo nervosi la voce dell'intervistatore non ci piace ma quando andiamo su Google e scriviamo nella finestrella che cosa cerchiamo noi diciamo sempre la verità se devo comprare un'utilitaria io non cerco su Google il concessionario della Ferrari prima perché mi vergogno noi diamo sempre un'informazione di qualità eccellente a questi social e loro la registrano ora utilizzando queste diciamo proprietà un po' spaventose un po' no meno se uno le conosce è possibile andare a guardare il problema delle fake news con specifico interesse per quello che è la politica ora uno degli osservatori principali per la politica è quello di Twitter è un sito dove le persone possono lasciare dei commenti brevi su certi argomenti e magari dire di che argomento stanno trattando è preceduto dal carattere del cancelletto l'hashtag il topic l'argomento del nostro del nostro intervento e si può andare a misurare questo è un articolo che abbiamo fatto tempo fa per esempio queste sono due elezioni fa quindi c'era scelta civica penso si chiamasse partiti si diciamo cambiano vorticosamente nel panorama italiano c'era il popolo delle libertà il PD i 5 stelle altri partiti e uno quello che vede è che questo volume di Twitter in qualche modo è abbastanza predittivo del risultato delle elezioni anche e perché noi diciamo sempre la verità lì ma noi siamo bravi gli altri meno adesso vedremo quali problemi ci sono in questo osservatorio quello che è importante è che se io vado ad unire due utenti di Twitter a seconda dell'argomento di cui parlano allora forse posso avere una rappresentazione della mappa della politica come sono le alleanze questo è una cosa che non abbiamo mai considerato metricamente non abbiamo mai considerato di poterla disegnare ecco invece ci sono dei colleghi in Francia che l'hanno fatto questo è potete cercarlo su internet si chiama politoscope l'etimologia è chiara quindi un osservatorio della politica ora vedete la patria di cartesi o razionali si parte dalla sinistra il colore è chiaramente quello che vi aspettate ci sono tutti all'epoca i politici del partito comunista si va verso i socialisti qui c'è Malençon al centro c'è Macron poi ci si sposta a destra qui c'è Sarkozy qui c'è Le Pen vedete c'è proprio un asse su Twitter e si va da sinistra verso destra come ci si aspetta da un paese cartesiano noi però siamo il paese del rinascimento quindi ecco allora se lo facciamo in Italia non viene una linea dritta quindi allora questo sono un'elezione fa non due elezioni fa allora ci sono i colori sono più o meno quello che uno si aspetta però insomma vedete qui abbiamo tutti gli utenti che seguono o rilanciano tweet di Silvio Berlusconi o chi per lui Matteo Salvini che era nella stessa alleanza è un po' spostato diciamo è più vicino a tweet di Forza Nuova qui c'è una serie di tweet del Fatto Quotidiano Di Maio e altri personaggi di Cinque Stelle sono vedete un po' dovunque invece in questo grafico qui c'era all'epoca Pietro Grasso che si era presentato e Matteo Renzi è staccato da questo alleato all'epoca era nello stesso schieramento e vicino alle posizioni di Silvio Berlusconi quindi vedete è un'informazione metrica che ci dice insomma dove collocarci ora torniamo fatto tutto questo non breve preambolo a quelli che sono i disordini delle informazioni alle slide finali come si può utilizzare questa idea delle reti come si può utilizzare questa idea dei moduli della comunità a cui appartieni per cercare di capire cosa è vero e cosa è falso e ne rifaccio la prima slide per vero intendo la negazione di fatti che sono evidenti a tutti poi ci sono altri disordini dell'informazione ora la cosa principale su cui stare attenti su Twitter è che noi possiamo magari iniziare una discussione con un utente e quest'utente non esiste sono quelli che si chiamano bot sono dei software che sono allenati a mandare delle notizie tagliate e rincollate o a rispondere diciamo con delle frasi alle volte non sembra abbiano molto senso alle domande che facciamo ai nostri interventi ma sono software non sono delle persone ora qui sicuramente abbiamo a che fare con un falso nel senso c'è un'identità c'è un nome e un cognome ma non esiste nessuno con quel nome e cognome allora qui è naturalmente come avrete capito la posizione che dà informazioni sul messaggio quindi invece di andare a leggere messaggio per messaggio cosa c'è scritto e scrutinare il significato quello che si pensa di fare è vedere a che comunità appartieni è una comunità di bot è una comunità di cose che non probabilmente non stanno dicendo il vero o rilanciano notizie artefatte allora comincio a dubitare anche di te questa è un po' l'idea ora gli utenti su twitter possono essere di vari tipi se voi fate l'account o ce l'avete probabilmente siete non verificati non vi siete mai dati la pena di spedire a twitter una foto del vostro passaporto col nome e cognome se però invece l'avete fatto siete degli utenti verificati avete questa spunta blu allora alcuni utenti sono verificati quasi tutti no allora che cosa abbiamo fatto noi abbiamo ripreso vi ricordate quella rete bi partita che avevamo visto prima abbiamo preso utenti abbiamo visto di chi argomenti parlano e siamo andati a calcolare la probabilità questa adesso è una cosa troppo tecnica e neanche fruibile a quest'ora della giornata tutto sommato siamo andati a vedere con che probabilità due utenti possono rilanciare una notizia sicuramente falsa una notizia artefatta per caso oppure perché appartengono alla stessa comunità fa uno fa tutti i conti che deve fare diciamo per quelli che sono interessati ai dettagli essenzialmente la probabilità che due utenti siano connessi a caso si calcola massimizzando l'entropia che è questa misura macroscopica del disordine all'interno di un sistema quindi io immagino che il disordine sia massimo in questo disordine con che probabilità siamo connessi io e te e tutta una serie di articoli tecnici che spiegano come fare e quello che si va a vedere è che per una serie di dati raccolti riguardo a questi temi cioè doveva esserci dopo l'hashtag dovevano essere in lingua italiana e dopo questo cancelletto doveva esserci immigrati migranti scafisti ONG Sea Watch Barconi insomma tutto quello che aveva a che fare con il fenomeno della migrazione clandestina in Italia che tipo di struttura si trova confrontando gli utenti e il loro contatto con utenti verificati al di sopra della probabilità che siano connessi per caso si riesce a fare una mappa delle opinioni in Italia allora quello che si trova si trovano all'epoca era il governo la coalizione di centrodestra quindi siti governativi e partiti del centrodestra formano questa comunità blu la sinistra non sorprendentemente la coalizione di centrosinistra è divisa in due comunità che trovate in questo in questa rappresentazione quello che è abbastanza sconcertante abbiamo sentito prima il nome di questo fenomeno è la polarizzazione chi sta di là vuole sentire solo le cose di di là chi sta di qua vuole sentire solo le cose di chi sta di qua la comunicazione fra un gruppo e l'altro è veramente molto poca tenete presente che qui ci sono siti governativi anche per cui per costruzione devono stare in mezzo altrimenti diciamo levati quelli non c'è molto altro ora che altro si può fare questa è una rappresentazione vedete sono le stesse due comunità ma è un grafo molto più grande si può anche andare a prendere all'interno di questa comunità un sottografo di utenti un po' sospetti nel senso sono utenti che ogni 5 minuti mettono un post non dormono mai sono utenti che insomma hanno altre particolarità un po' strane esiste un altro software si chiama bot o meter fatto da dei colleghi italiani che lavorano a bloomington in indiana misura la probabilità con cui l'utente su twitter è in realtà del software che semina ogni 5 minuti delle notizie però quello che si vede è che esiste una squadra di bot abbastanza abbastanza guerrita con alcuni che hanno tantissimi collegamenti vedete ritorna questa caratteristica di cui abbiamo parlato prima coesa connessa e una delle due parti che se ne abbale in maniera maggiore rispetto all'altra allora senza entrare nel merito di cosa ci sia scritto se sia vero se sia falso secondo la definizione di aristotele o secondo quella più recente di gredo è la topologia è con chi mi accompagno che comincia a destare qualche sospetto ora io su questo chiuderei anche perché siamo andati un po' lunghi i messaggi che volevo dirvi è che in questo mondo nuovo senza uguali direi anche senza vergogna questo senza uguali non è più necessario andare a investigare esattamente all'interno del messaggio che cosa ci è scritto ma basta la struttura della rete basta la posizione all'interno di questa società informatica in cui io mi trovo che già da informazione già mi profila esattamente come io sono profilato da tutti i software che uso provate ad aprire google andate a vedere nelle impostazioni cosa sa di voi se avete mai usato google associato al vostro gmail al vostro account di gmail sa dove eravate in vacanza negli scorsi anni che cosa avete comprato che cosa avete fatto quindi la posizione la topologia la rete è sufficiente per la profilazione per quello che riguarda questo semplice esercizio che abbiamo fatto di andare a studiare la struttura di twitter la struttura di twitter è abbastanza significativa nel rappresentare la mappa della politica in italia in francia o in ogni paese in cui diciamo sia possibile scaricare questi dati troviamo una presenza importante di account finti o account insomma che funzionano in maniera automatica non tutte le parti politiche sono connesse con questa rete automatica nella stessa misura io vi ringrazio per l'attenzione mi dispiace di avervi inondato di concetti forse non spiegati nella maniera opportuna vi lascio una breve bibliografia ecco senza uguali l'ho detto perché è l'ultimo libro appena pubblicato su questi argomenti grazie ancora per l'invito grazie grazie Guido anche proprio per lo per lo sforzo di comunicazione che hai fatto sei il più comunicativo di fisici e statistici che io conosca e l'ora è tarda però non vorrei togliervi la possibilità di fare delle domande ancora o a o a o a o a o a o a o a Guido se ne avete Ernesto professore Ernesto Cattoli una cosa a Giampiero Giampiero Brunetta naturalmente ci hanno stato esempi clamorosi di uso del cinema per propagare cose patentemente false in modo evidente potrei forse anche accenare l'istituto di luce che tu sai la E della luce vuol dire educazione cioè senso educativo anche però ti domandavo se tu sei d'accordo sul fatto che il cinema è una forma d'arte che è sempre e comunque è un messaggio anche quelli innocenti chiaro che la cinematografia sovietica o quella anche dell'epoca nazista è evidente ed è ovvio anche se hanno anche il vantaggio di avere prodotti di altissimo livello artistico pensiamo ai registi sovietici per esempio ma in generale se cinema sempre comunque abbia un messaggio da darci eh sì è nella sua natura nel momento stesso che giri qualcosa vuoi o raccontare o trasmettere qualcosa a qualcun altro e quindi sì c'è sempre un messaggio è sempre un significante legato a un significato anche se innocente non poi non anche vedendo i documentari dei fratelli Lumière tutto è costruito nulla è la spontaneità assoluta ci sono pochi sguardi nella storia del cinema in cui è il caso più assoluto che guida l'incontro tra l'occhio e la macchina presa e la realtà nel momento in cui ti posizioni scegli quella determinata angolazione un rapporto di vicino vuoi raccontare qualcosa vuoi attribuire a quella cosa che stai vedendo un valore aggiunto che è dato dal tuo occhio non c'è lo guardo assolutamente neutro almeno io penso così c'era Monica poi Paolo io volevo chiedere una cosa ovviamente sono documentari estremamente toccanti allora volevo sapere questo noi sapevamo che questo era un documentario falso appunto che costruisce una storia falsa e naturalmente tu hai insistito tantissimo nel dire tutti ridono tutti così ma guardandolo in maniera analitica in tutti i suoi cioè traspare come noi osserviamo il carro pseudo etrusco e siamo in grado di cogliere quell'elemento che ci dice qui non c'è perché lì qualcuna di quelle donne che passavano non mi sembravano proprio cioè non lo so se l'umanità comunque in qualche modo è venuta fuori oppure erano tutti dei bravissimi attori che no è fatto in modo che anche a rivederlo a rivederlo tu hai una tua empatia un tuo coinvolgimento ma in sé non traspare non c'è la possibilità di dire subito è falso è falso c'è qualcosa c'è qualche cosa in secondo piano che non funziona è tutto costruito come un film realistico e quindi tutto deve essere la partita di calcio è vera il gol che viene mostrato è vero l'attacco sinfonico è vero e questi artigiani fanno il loro lavoro quindi quei gesti del tagliare la stoffa o del mettere al cavallo sono assolutamente realistici e quindi è più difficile ecco lo sai perché sai questa distanza e sai hai delle informazioni in più fra l'altro queste cose sono venute fuori 60 anni dopo oltre a tutto Paolo Legrenzi che domani ci racconta volevo fare un'osservazione sulla interessantissima relazione forse anche motivata dalla mia deformazione professionale in parte collegata anche alla relazione interessante di Pievani tu ci hai spiegato in modo mirabile il cinema partendo da Paul Valéry che è il falso attraverso il vero e la falsificazione propagandista esattamente questo abbiamo detto però forse nella storia del cinema c'è anche un messaggio più ampio che non è il falso attraverso il vero ma è il vero attraverso il falso e mi spiego perché partiamo da un esempio paradigmatico il film di Truffaut Effetto Notte Day for Night film celeberto in quel film io ho visto come dico forse per la deformazione professionale per temi trattati da Pievani che poi tratteremo domani anche Valortigale Dio una vita una storia la storia di questione del film che è anche la metafora di come noi vorremmo che fosse la vita mi spiego i psicologi studiano molto gli errori della percezione l'attenzione perché noi studiamo attraverso i nostri fallimenti studiamo come funziona l'uomo semplificando allora c'è Valentina Cortese che non riesce mai a trovare la porta giusta ma dopo alla fine riesce e nel film questa limitazione scompare oppure c'è Antoine Duanel che si comporta come un bambino si innamora poi telefona il marito e tutte queste irrazionalità poi nel film che è un omaggio al cinema è un film sulla costruzione di un film tutto questo scompare allora in certo qual modo il risultato finale della costruzione del film è un vero più vero di quello che è la vita perché il regista a un certo punto quando il film come nella vita la vita irrompe nel film e cerca di interrompere il film perché Antoine Duanel che è un adolescenziale egocentrista a un certo punto vuole smettere di fare il film allora Truffolo prende la parte e gli dice ma guarda che il cinema non è come la vita nella vita ci sono le imperfezioni i difetti le irrazionalità ma il film invece va come un treno nella notte e quindi la costruzione del film è in realtà una cosa una vita come posso dire depurata da tutti quei ostacoli fallimenti delusioni difficoltà errori ci sono nella vita allora forse nella storia del cinema c'è anche questo c'è c'è moltissimo questo io ho solo preso una piccola parte per rispondere all'esigenza del ma io vedo appunto ti rispondo con una sola lettera che scrive suso cecchi d'amico a renzo renci per spiegargli come ha lavorato per la ricostruzione dell'ottocento del gatto pardo gli dice abbiamo si è girato dal vero costruendo il vero ecco cioè il cinema comunque crea sempre delle è un inventore straordinario di mondi e di realtà e questo io lo credo da sempre da Mellies a tutti i grandi creatori ci crea delle realtà addirittura in cui per me insomma vorremmo anche vivere cioè entrare talmente realistica è quella cosa che io vorrei essere risucchiato nello schermo al di là dei miei neuroni specchio che si agitano quando vedo determinate cose ma sì quindi è di più l'altra cosa che fuori qua ho cercato di raccontare una piccola parte per rispondere al tema peraltro inquietante quanto poche altre non poco no 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 volevo fare una domanda io a Telmo e a Guido legata cioè non trovi Telmo che passiamo al decalogo che mi ha molto colpito ho preso franticamente le notte eccetera però l'idea la decima è la più importante che spiegare il consenso cosa se guardi i risultati che ha mostrato Guido e cioè che in qualche modo c'è una c'è un preordinamento rispetto alla tua possibilità di convincere qualcuno intorno al consenso sembra che sia un compito impossibile quello del decimo punto del decalo sì sì è molto difficile e poi queste dinamiche lo dimostrano chiaramente che è un andare contro una corrente molto forte però ci sono dei margini di speranza un esempio nello spiegare il consenso scientifico molto spesso quando si fanno dei dibattiti con chi è dentro quelle cricche diciamo e che è molto si è già è già entrato in una dinamica di forte autoconvincimento un errore che spesso si fa è cercare di convincere lui o lei e di cercare di portarlo sul tuo terreno in realtà molto spesso è efficace in realtà come dire avere un atteggiamento tale in cui tu spieghi cos'è la scienza ma non per convincere lui o lei ma tutti quelli che stanno a guardare il dibattito stesso perché in tutta la platea che sta a guardarti c'è una zona grigia di persone che invece forse sono ancora convincibili a uscire da quella cricca quindi l'errore spesso che si fa è essere molto aggressivi puntare cercare di convincere il tuo avversario che è quello che ha spacciato la fake news e quando sei aggressivo automaticamente dimostri una debolezza un atteggiamento comunque di difficoltà e invece si è verificato in molti casi in cui tu concedi fai finta di concedere il beneficio del dubbio per esempio lo porti sull'assurdo e ci mettiamo che tu abbia ragione e lo porti all'assurdo in quel modo quelli che ti stanno ad ascoltare dicono però vedi questo com'è convincente mi ha spiegato il metodo non è aggressivo lui non lo hai convinto comunque resta nel suo hub però tutti quelli che sono lì che ti ascoltano forse qualcuno si è riuscito a spostarlo e anche l'idea della decostruzione degli argomenti di quello che sbaglia sono molto sensato però mi sembra di vedere quello che chiedo a Guido mi sembra di vedere però che c'è qualcosa che è ineluttabile e mi scoraggia molto naturalmente nel bulk delle notizie che sanno di noi per quello che facciamo per il passaggio attraverso la rete cioè dall'idea di una ineluttabilità clamorosa insomma di questo processo e convincere veramente allora innanzitutto io non ne ho parlato le persone sono convinte da storie più che da fatti quindi ci sono proprio classi di narrative c'è l'eroe buono c'è quello che sconfigge le difficoltà e poi dopo arriva al successo e quindi quando parte una storia finta che però ha tutte queste caratteristiche vanno scardinati prima diciamo questa sceneggiatura e poi si deve passare ai fatti però il problema della rete è che siamo tutti connessi quindi le persone che prima magari erano isolate non avevano possibilità di parlare a 10 miliardi di persone adesso ce l'hanno questo è questo causa non poco disordine prego trovo molto molto interessante la prego sì volevo ringraziare Caldarelli e Pievani per le in particolare per lo meno mi sono sembrate molto interessanti le cose che han detto però ho delle anche rispetto a quello che un po' cennava lei adesso ho delle perplessità serissime voglio dire mi sembrava strano che fosse proprio lei a proporre una diciamo così delle interpretazioni apodittiche di che cosa è vero e di che cosa è falso cioè delle semplificazioni è comprensibile che ci siano in conferenze come queste delle semplificazioni delle riduzioni però soprattutto da parte di un fisico che si occupa di statistiche che evidentemente conosce Bohr conosce il principio di indeterminatezza e come la scienza anche fisica oggi sia la dimostrazione di ciò che è e di ciò che non è al tempo stesso e questo è il dramma di oggi parlo di Cacciari e di crisi e cioè di un libro recentissimo che ha scritto appunto Cacciari su questo argomento ecco mi sembrava strano che proprio lei arrivasse a dire per esempio a citare Aristotele perché oggi sappiamo che non è più così non si può più classificare le cose non si possono più classificare così prima osservazione l'altra è relativa alla possibilità cioè all'aspetto un po' dico senza nessuna intenzione offensiva evidentemente un po' modaiola di trattare questi argomenti dal punto di vista cioè con il termine la terminologia fake news a parte il fatto che per noi italiani utilizzare fake news è una cosa un po' ambigua cioè è un termine inglese in termini anzi ormai diciamo così americano quindi è molto difficile definire di cosa stiamo parlando la stessa cosa potrebbe funzionare nel cinema per le diciamo così docufiction che sono una roba per me rimane sempre misteriosa come definizione però una delle cose interessanti che citava Pievani era quella relativa ma che mi mette dei dubbi è quella relativa appunto alla possibilità di trattare questi argomenti dal punto di vista del metodo non della sostanza cui mi sembrava invece lui diciamo propendesse perché mi sembra che ci sia un difetto sociologicamente analizzabile nel fatto che presentare le cose in termini di io dico cos'è cosa sono le fake news è un'autocertificazione di verità io sono la verità e trasmetto agli altri che cosa è fake news e che cosa non è fake news ho questo dubbio pur essendo apprezzando moltissimo il decalogo finale diciamo che è molto secondo me molto interessante io faccio lo scienziato non riesco a capire per esempio quella ermeneutica che di discendenza edegheriana che dice che non ci sono fatti ci sono solo interpretazioni a me crea problemi questo voglio dire quindi lo dico tu io entrambi entrambi ma però la negazione che esistano fatti che crea dei problemi prima te e poi guido entrambi io solo per confermare fake news lo abbiamo utilizzato tutti adesso qui perché era il termine che ci permetteva di capirci meglio ma sono d'accordo è una semplificazione il termine corretto è quello che lei chiamava anche Guido noi tecnicamente la chiamiamo un'informazione di cattiva qualità la cattiva qualità dell'informazione del dibattito questo è la sostanza poi la fake news appunto è una semplificazione poi sono d'accordo con Andrea nel senso questa visione appunto ermeneutica poco si addice al fatto che durante una pandemia tu hai un'incertezza che devi affrontare in ambito scientifico e il paradosso in cui ti trovi è che non puoi né semplificarla troppo e proporre una verità perché sarebbe una contraddizione rispetto al metodo scientifico ma non puoi nemmeno dire che tutto si equivale e che tutto sta sullo stesso piano e quindi devi avere un criterio che non è un criterio di verità o di oggettività che sono parole difficili in ambito scientifico ma criteri di plausibilità chiamiamoli di verosimiglianza come diceva Popper però sono ineliminabili altrimenti davvero entriamo nella notte in cui tutte le vacche sono dello stesso colore no io semplicemente diciamo mi dispiace ovviamente non mi sono spiegato bene il termine allora iniziamo da adesso mi ricollego a quanto appena detto il termine fake news io poi ho parlato di disordine dell'informazione più correttamente è comunque un termine che è entrato nell'immaginario collettivo e che con cui dobbiamo relazionarci proprio non è che lo dobbiamo perpetuare però insomma quando si intende quello si intende non solo una notizia artefatta magari per trarne un vantaggio che poi è anche reato nell'ambito finanziario e l'agiotaggio ma una serie di cose che poi abbiamo provato insomma poco tempo a descrivere quindi no chiaramente certo sono d'accordo però bisogna fare un non vorrei dire downgrade vorrei utilizzare il termine italiano diciamo riportare in basso la discussione nel senso io mi sono occupato di un caso molto semplice gli utenti che non sono utenti reali se io dico che mi chiamo Paolo Rossi ma Paolo Rossi non esiste questo è un fatto incontrovertibile poi certo c'è sicuramente il principio di indeterminazione però anche lì come si diceva prima ci sono dei contesti che sono molto importanti noi non siamo elettroni quindi io vorrei passare nel muro ma non ci passo se corro al di là del film di Harry Potter non passo nel muro come farebbe un elettrone cioè quello vale su una certa scala fuori non vale le cose nel mondo nostro sono ben descritte dalla meccanica di Newton cioè una cosa o sta qui o sta là e non è che ci sono dubbi anche dopo Bohr su questo cioè è solo male descritta questa legge vale dentro un filo ma in una stanza non vale e quindi è vero anche che non usiamo più Aristotele per quanto posso chiamarlo collega insomma è stato uno dei primi fisici comunque per le cose di cui dobbiamo parlare era una ragionevole bussola nel senso se io vedo un account su Twitter con una bellissima ragazza che si chiama nome esotici che potete immaginare quasi sicuramente non sarà lei ma sarà un adolescente che vive in qualche altra parte con la barba no allora questo tipo di fenomeni adesso noi possiamo in qualche modo intercettarli solo questo era lo scopo della non mi sarei mai azzardato a entrare in cosa è vero e cosa è falso da un punto di vista filosofico però questo non possiamo ancora fare no infatti e trovo il messaggio il messaggio evidentemente il fuorviare è antichissimo il problema del calunniate calunniate qualcosa resterà è che oggi va a 700 milioni di persone in una frazione di secondo le epidemie nel tempo nel tempo storico certamente le pandemie richiedevano il macenare dei decenni per propagarsi adesso basta due giorni un volo intercontinentale santo di Dio e questa accelerazione dei processi insomma che credo che ponga che ponga ma certamente questo segnala e di questo vi sono grato nel chiudere questa discussione nella prima giornata e l'interesse per questo tema che io trovo sia veramente molto adatto ad un'accademia perché è nato per questa idea di far parlare scienziati umanisti di parlare di cose diverse questa interdisciplinarità che è la nostra ragione d'essere e che possiamo fare solo noi sostanzialmente perché non abbiamo vincoli di nessun tipo e di questo vi sono Ernesto di commentare chiusura infatti esistono giusto non è solo interpretazioni però mi domando se voi fisici vivete con tanta desinvoltura di fronte a fatti che la nostra mente finita non comprende io non so quando si parla di dire si dice per esempio si parla di una entità di 10 alla meno 23 secondi come fate a immaginare cosa vuol dire 10 alla meno 23 secondi e qualcosa sono fatti saranno anche fatti ma insomma si immagina dipenderà dalla sensibilità degli strumenti con cui li misuri ma anche per gli studi biochimici eccetera ci sono fenomeni che misuri bene fenomeni che non misuri bene ma non siamo a quel livello lì però Andrea no vabbè ma sono cose diverse 10 alla meno 23 secondi è una entità non immaginabile è il consenso è il costruire il consenso di cui parlava te bisogna trovare degli argomenti in cui c'è una ragionevole convergenza detto questo però l'ora si è fatta tarda la discussione me personalmente appassiona vi sono grato e vi do appuntamento domani mattina